Ciao a tutti, bentornati su Spazio Indaco, benvenuti all'oroscopo del mensile del mese di ottobre del 2023 e soprattutto benvenuti a questo nuovo corridoio energetico che parte il 29 settembre, praticamente un giorno prima, un giorno e mezzo prima che il mese di ottobre faccia il suo ingresso, che noi entriamo nel mese di ottobre con la luna piena in ariete e che terminerà con la prossima luna piena in toro esattamente un mese dopo il 28 ottobre. Quindi è un mese molto intenso perché queste due lune piene si scontreranno con entrambe con Marte, perché questo mese la luna piena in ariete va a contrastare e ad opporre esattamente quello che è il suo antagonista, Marte in bilancia, quindi una luna, l'emotività nel regno di Marte che oppone Marte nel segno di Venere. Quindi è chiaro che gli affetti e le dinamiche familiari, le dinamiche relazionali avranno degli scossoni, gli scossoni ovviamente sono finalizzati anche a ripristinare degli ordini, a far emergere delle tensioni sommerse, a farci evolvere come facciamo noi, come sappiamo fare noi. Quindi attraverso l'attrito, attraverso lo scontro, probabilmente qualcuno riguadagnerà la libertà, qualcuno inizierà a capire che deve riguadagnare la libertà e quindi il mese inizia con una luna piena di grande impatto, di grande fuoco, di grande grinta, di grande portata anche di scontro, di lite. Questo probabilmente accadrà anche a livello mondiale, quindi vedremo magari degli assetti traballare, magari ci saranno degli attacchi, magari vedremo delle coppie VIP come quelle che abbiamo già visto, che si lasciano, ma probabilmente proprio degli scontri, delle tensioni a livello mondiale, oltre che relazionale e come in grande, così in piccolo, ci saranno anche degli scontri finalizzati al raggiungimento dell'emancipazione, dell'individualità, anche a un affrancarsi da coppie di fatto, di facciata, non, quindi non più portate, come dire, alimentate dall'amore e insomma anche a tante altre cose, probabilmente ci saranno degli scontri con la giustizia, perché? Perché comunque quando c'è il sole in bilancia è chiaro che l'energia vitale si muove parallelamente in quelle che sono le analogie del segno della bilancia, quindi oltre all'amore, oltre alla bellezza, oltre alle coppie, anche alla diplomazia, alla politica, alla legge, quindi ci saranno, c'è Marte, immaginate, no? Non tutti gli anni Marte transita nel segno della bilancia quando il sole è in bilancia, quindi cosa significa? Se ci sono due pianeti, cioè se c'è già il pianeta della forza, che tra l'altro è contrario al segno bilancino, no? Che è governato da Venere e da Saturno, il pianeta della forza transita nel segno della bilancia, transita e si unisce e si congiunge al sole in bilancia, è chiaro che le simbologie del segno, legate al segno della bilancia, devono avere uno scossone, uno scossone per rivitalizzarsi, per rivitalizzarsi, per risvegliarsi, per evolvere, per uscire dalla zona di comfort, insomma, per prendere una boccata d'aria alla maniera umana, no? Che non è magari, non è sempre evolutiva, è un po' di impatto. Poi il 14, Marte, esce dal segno della bilancia, entra nel segno dello scorpione, quindi va in un segno allo più confacente, perché Marte è in domicilio nel segno dello scorpione, formerà un trigono con Saturno, quindi ci aiuterà dopo battibecchi, dopo tensioni, anche di coppia, relazionali, affettive, ci aiuterà a, come dire, a rinascere, a risorgere, perché comunque Marte in scorpione è un Marte di acqua, quindi emozioni profonde, quindi la profonda comprensione delle cose, è un Marte plutoniano, quindi la guarigione, no? E la guarigione avviene spesso dalla profonda comprensione di qualcosa che è avvenuto, la fortuna è che c'è il trigono di Marte in scorpione con Saturno, è un Saturno retrogrado, ma cosa significa? Che innanzitutto risolviamo qualcosa che era rimasto in sospeso con Saturno, quindi qualcosa che era rimasto in sospeso, che non riuscivamo a far decollare, delle questioni magari irrisolte, delle questioni non affrontate, delle questioni da cui eravamo fuggiti o che si erano semplicemente arenate, perché non era tempo, come ci dice Saturno, con la forza di Marte, con l'azione, adesso iniziano a confluire, a confluire positivamente e in tutto questo processo che cambia pelle, ma è sempre il viaggio tra Marte e la Luna finché si incontreranno, a fine mese Marte in scorpione si opporrà alla Luna in toro, una Luna piena in toro del 28 ottobre a 5 gradi, quindi comunque sarà una Luna che darà una bella spinta comunque a Saturno, perché sarà in ottimo aspetto con Saturno, si congiungerà a Giove e a Urano, quindi porterà probabilmente a galla quel processo di cambiamento, come dire, quel processo di trasformazione, quel processo di questioni legate alla materia che Giove in toro e Urano in toro, prima Urano, poi Giove, stanno portando a galla, quindi questioni di eredità, questioni di soldi, questioni di immobili, immobili che si vendono, compravendite che si risolvono, ovviamente ci vorrà, bisognerà arrivare all'apice, all'apice diciamo di queste questioni materiali, quindi questa sarà la Luna piena in toro, congiunta a Giove e congiunta a Urano, no, congiunta a Urano, allora, congiunta a Giove, sì ragazzi, a Urano c'è uno scarto, c'è uno scarto di qualche grado, perché si possa parlare tecnicamente di congiunzione, quindi sarà tecnicamente una Luna congiunta a Giove in toro, opposti a Marte in scorpione, però voi sapete che Urano in toro comunque, anche se non andiamo al grado, partecipa energeticamente, quindi riguarda, porta dei cambiamenti, no, questa Luna piena sollecita dei cambiamenti portati da Urano, perché comunque il pianeta è nel segno e quindi risente dell'energia della lunazione in toro, della Luna piena in toro, che comunque si farà piena al quinto grado, verso le dieci e mezzo di sera, ma poi qualche ora dopo, quando avrà ancora lo splendore e l'energia del plenilunio, congiungerà anche Urano, quindi ci saranno dei cambiamenti, ovviamente possono essere dei cambiamenti repentini e dei cambiamenti invece che iniziano lentamente, che poi sviluppano, che che riguardano le coppie, il modo di divertirsi, le trasgressioni, la fedeltà, questo ovviamente a livello delle singole persone, no, quindi le relazioni, il modo di stare in coppia e di includere o meno gli altri, sembra che ci siano tutta una serie di avvenimenti, quando c'è gioventoro accade, no, che le dinamiche relazionali, sia quando c'è gioventoro che quando c'è giovento in bilancia, può accadere che le dinamiche relazionali anche dei singoli, nonché della collettività, prendano, evolvano, no, cioè che registrino dei cambiamenti comportamentali, perché? Perché giove è un dilatatore che con le simbologie del segno che sta percorrendo, no, gioca un po' all'esasperazione, cioè a gonfiare, gonfiare, gonfiare delle dinamiche fino a farle o scoppiare per farle magari perché erano disfunzionali e quindi vuole liberarsene, vuole liberare la società, quindi le porta a un punto massimo e poi si dissolvono, no, cioè si arriva al punto di rottura, oppure fa sviluppare delle nuove dinamiche e tecnicamente visto che questa luna e questo giove sono anche in ottimo aspetto con Saturno, si potrebbero anche, potrebbero di con Saturno in pesci, le dinamiche, i miglioramenti, l'evoluzione, la sistemazione, no, dei rapporti, del modo di vivere, la sensualità, la coppia, le dinamiche sentimentali, gli approcci, anche gli eccessi legati a questo, trovino nel web, visto che abbiamo Saturno in pesci favorevole, una, non so, probabilmente delle leggi, delle cose, delle sistemazioni, insomma. Cari amici dell'Ariete, cari amici con l'ascendente Ariete, allora questo, questo mese, il mese di ottobre, arriva, nasce, sorge, attraverso, grazie, no, penetrato, compenetrato dall'energia della luna piena in Ariete, nel vostro segno, che ci sarà il 29 settembre, ovviamente la luna, negli effetti della luna, durano sempre due o tre giorni, questa è una luna molto impattante, quindi proprio ottobre vi vede altamente esuberanti. Allora, come ho detto nell'introduzione, il mese è diviso in due e per voi sarà particolarmente coinvolgente, perché? Perché c'è la luna piena nel vostro segno e si scontrerà con Marte in bilancia, cioè con il vostro governatore, il che vuol dire che ci sarà anche una sorta di, come dire, tensione interiore, non soltanto all'esterno, voi sapete che, vabbè, noi lo diciamo spesso negli oroscopi, l'esterno riflette le tensioni interiori. Però è giusto che con una luna piena nel vostro segno, opposta a Marte, quello che magari marinava dentro di voi da tempo, adesso trovi il giusto sfogo, affinché ci siano miglioramenti ed evoluzioni. Gli amici dell'Ariete hanno Saturno nel segno precedente al proprio per tre anni, quindi Saturno in pesci, che lavora molto sul vostro inconscio. Lavorando sul vostro inconscio è chiaro che fa emergere tutte le contraddizioni, tutti gli irrisolti, il rapporto con i genitori, le paure, i desideri, le memorie, anche i desideri che uno non confessa mai. Quando passa Saturno è come se veramente questo rastrello con dei denti molto stretti facesse la tara a tutto quello che voi avete dentro. E quindi poi ci sono dei momenti dell'anno in cui siete più tranquilli, anche se chiaramente percepite un'attenzione psicologica, perché? Perché state crescendo, state elaborando, guarendo il vostro inconscio e quindi è chiaro che se iniziate a sentire dei malesseri, ragazzi, è perché i transiti vogliono che voi guardiate dentro il vostro inconscio, le vostre memorie sepolte, le vostre paure e o anche i vostri desideri, chi volete finalmente essere e iniziate a lavorare per questo. Perché se voi inizierete, vi lascerete guidare da questo processo di rinnovamento, di alleggerimento, di maturazione, di presa di coscienza e di lasciare andare quello che non serve più, delle vostre dinamiche, delle vostre paure, insomma, di quello che è il vostro mondo interiore, quando arriverà Saturno, fra due anni e mezzo consacrerà un grande lavoro che avrete fatto. Quindi è come offrire al tempo e alla vita un vassoio d'argento. Quindi che cosa accade? Questo mese, che è diviso in due, nella prima parte, quindi nella prima quindicina, sì, ci si scontra un po' nelle dinamiche relazionali, lavorate attraverso le tensioni, attraverso lo scontro, attraverso forse le liti, le lotte di potere, il dominio, il rapporto, vi misurate, no? Nel rapporto, quello che è il rapporto tra voi e gli altri, tra voi e il partner, fra voi e la solitudine, fra voi e l'idea di coppia. Vengono fuori delle tensioni che ovviamente c'erano già da 15 giorni nella seconda parte di settembre, perché Marte in bilancia ogni due anni torna a sfidarvi. E però, cosa c'è di diverso da settembre? Che con la luna piena, di fine settembre, inizio ottobre, di questa luna piena potentissima, che cavalca alla fine di un mese e ne apre un altro, sul vostro sole in ariete o sul vostro ascendente, vale anche per la luna in ariete, e per tutti i pianeti in ariete, perché so che me lo chiederete, ci sarà una grande esuberanza e anche un non voler stare più a vecchi giochi di potere. Quindi per alcuni di voi, non per tutti, perché non siamo tutti uguali, perché ognuno arriva ad un transito in una maniera diversa, perché il presente è l'effetto del passato, chi arriva che è proprio arrivato, no? Chi arriva che è proprio arrivato, scusate la cacofonia, chi arriva veramente in un contesto, in una situazione in cui veramente non ne può più, potrebbe abbracciare l'entusiasmo, l'irruenza, la forza di questa luna ed emanciparsi da qualcosa, emanciparsi da un rapporto, da un lavoro, ma anche da dinamiche, così, da dinamiche di gruppo. Diciamo che tutto quello che è l'io contro il voi viene messo sul piatto della bilancia e vengono, come dire, vengono processate varie, varie situazioni. Potete emanciparvi, perché ci sarà una grande, anche una grande rabbia, anche una voglia di alzare la cresta. Quindi possono esserci dei moti di ribellione, però attenzione, perché possono esserci anche dei colpi di testa ed è dai colpi di testa sicuramente che le stelle vi mettono in guardia. Perché tutto quello che si fa con l'impulsività sullo sclero del momento, poi insomma voi siete i maestri, no? Del colpo di testa, della cosa non ragionata, potrebbe portarvi magari a complicare delle situazioni, a creare degli attriti che poi per recuperarli insomma o ce ne vorrà molto o addirittura in alcuni casi, perché succede quando magari si esagera e non è più possibile tornare indietro. Il consiglio è di, il consiglio delle stelle, questo valeva già per settembre, per ottobre, per la prima quindicina di ottobre ancora di più, perché siete ulteriormente sollecitati dalla luna piena in ariete, è di non essere eccessivi, di non volervi imporre eccessivamente, di cercare di mantenere una sorta di calma è una sorta di lucidità a tutti i costi, perché appunto il transito è sfidante, cioè può essere molto utile laddove c'è l'ariete scompensato che non ha il coraggio mai di imporsi, di ribellarsi a delle cose che non deve sopportare e allora da questa luna trae forza e si emancipa da qualcosa che lo stava soffocando. C'è anche l'ariete eccessivamente esuberante, scompensato in eccesso, che cerca sempre situazioni di rottura, che provoca, che insegue, no? L'ariete sia l'uomo che la donna quando sono molto carichi possono far pensare un po' ai cacciatori, sono molto primitivi nelle loro manifestazioni, invece in Marte, in Bilancia, che fondamentalmente vi sta facendo vedere quello che vorrebbero gli altri, non andrebbe sfidato più di tanto, cioè bisognerebbe accettare che una non risposta è già una risposta, quantomeno il tempo non è dalla vostra parte e la vita vi sta dicendo che non è questo il momento, non dovreste essere eccessivamente insistenti, non dovreste essere eccessivamente provocatori e a volte, a volte, visto che comunque è un cielo che riguarda anche la seduzione, le coppie, le conquiste, bisognerebbe anche accettare che c'è qualcuno che non preferisce la vostra, la nostra conoscenza, ma preferisce la conoscenza degli altri. Quindi stare un attimo, imparare ad autogestirsi, imparare, grazie a Marte in Bilancia, a rispettare quello che è il volere degli altri, le convenzioni, le abitudini altrui, senza insistere. Quello da cui potete emanciparvi sono dinamiche nelle quali voi avete il controllo su voi stessi. Ecco, non esercitate il controllo sugli altri, non siate, come dire, di impatto, non cercate di imporre la vostra volontà sugli altri, perché in quel modo probabilmente riceverete non solo un 2 di picche, potrebbero esserci, se ci sono state delle insistenze dietro, dei fermi, degli stop e dei contraccolpi. Diciamo che la vita, quando ci mette Marte opposto e una luna nel nostro sole o nel nostro ascendente, fa in modo di creare delle dinamiche per farci capire quanto abbiamo esagerato, le risposte che ci arrivano sono direttamente proporzionali a quanto abbiamo esagerato. E siccome la misura, il Mediostat Virtus, la misura è è un'ottima soluzione a molti dei casini che l'essere umano crea nella vita, per voi questo sarà un fantastico esercizio di stile. La seconda parte del mese si spostano completamente gli elementi, ci saranno Marte, il vostro governatore, esce dall'opposizione, entra nel fluido e nell'amico segno dello scorpione, si congiungerà ovviamente al sole, che poi il vento entrerà nello scorpione, e a Mercurio in scorpione, quindi poi ci sarà a fine mese la luna piena in toro. Cosa significa? Che all'inizio del mese imparate la misura o non la imparate e a seconda di quello che avete fatto nei primi 14 giorni, poi la seconda parte servirà a recuperare le energie perse, probabilmente, oppure servirà laddove vi siete invece emancipati, avete approfittato dell'energia della luna piena e avete risolto delle questioni, inizierà una seconda fase molto costruttiva perché i pianeti scorpione saranno, trigono a, ragazzi, a Saturno e quindi inizierà una nuova fase legata sia alle finanze ai soldi, una nuova fase positiva, se riuscite a sfruttare questa parte facendo il giusto e seminando bene la seconda parte del mese con Marte e trigono a Saturno, poi con la luna piena di fine, una luna piena taurina, quindi opposta a Marte, quindi l'asse della materia, insomma, il mese potrebbe finire con delle grandi soddisfazioni, delle grandi prospettive, soprattutto, di nuovi equilibri, di nuovi possessi, di nuove abbondanze e poi quando il 4 novembre ve lo spogliono Saturno tornerà diretto quello che è maturato nella seconda parte del mese e vi sto parlando in termini di soldi, offerte, fortune, nuove relazioni, divertimenti, conquiste, nuovi ambiti, crescite, proprio è un momento completamente diverso, poi a novembre potrebbe darvi ulteriori soddisfazioni e portarvi lontano, quindi, oroscopo fiume, un grandissimo in bocca al lupo, fatemi sapere nei commenti come andrà questo mese diviso in due, state calmi, state sereni e, come dire, controllate le intemperanze, non fate colpi di testa, un grande bacio. Cari amici del toro, cari amici con l'ascendente toro, benvenuti all'oroscopo del mese di ottobre 2023, un mese che si apre con un corridoio energetico caratterizzato dalla luna piena in ariete, quindi il segno precedente al vostro. Che cosa significa? Che c'è, innanzitutto, è una luna piena che avviene nel settore dell'inconscio e che potrebbe riportare a galla una sorta di ribellione, un po' quelle dinamiche che ci sono state nel 2000, tra la fine del 2022 e la primavera del 2023, quando con Giove in ariete avevate tutta una, un'esuberanza, una ribellione, vi eravate posti degli obiettivi molto ambiziosi, non riuscivate a stare più nel posto dove stavate, quindi c'era una grande voglia veramente di ribellione, sembravate irriconoscibili, non sembravate dei toro placidi e tranquilli, era venuta fuori tutta una sorta di rabbia sepolta e sicuramente cioè Giove non, Giove ve l'aveva soltanto mostrata, ok? E ovviamente faceva parte nell'ottica del cambiamento che Urano sta operando dal 2018 sui vostri valori in toro, faceva parte a un certo punto anche di una presa di coscienza di quello che non andava bene e che con Urano doveva essere cambiato e di quello che invece erano emozioni sepolte che andavano guarite e non alimentate, Perché voi sapete che nella ribellione nell'energia marziana anche nell'impulsività ma soprattutto nella ribellione c'è un'energia di rinascita perché ci si ribella alla fine delle cose, al passato, a qualcosa che non funziona più, alla polvere sui libri, sui libri ma altre volte ci sono semplicemente dei colpi di testa per energia compressa perché uno si butta dietro per comodità il toro lo fa tutto quello che gli potrebbe risultare scomodo e quindi poi magari va ad accumulare tutta una serie di scorie inconsce che si è fatto andare bene e poi sbotta, infatti sono celebri gli sbotti del toro che tecnicamente di solito non dovrebbe a meno che non abbia un tema natale particolare non dovrebbe essere particolarmente come dire litigioso e attacca a brighi a meno che uno proprio non gli va a togliere l'osso da sotto al naso e che però ogni tanto quindi accumula 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 sta zitto e poi esplode quindi da un punto di vista da un lato questa luna potrebbe essere questo mese di ottobre inizia con un corridoio energetico che vi può portare a guardarvi dentro ok a guardarvi dentro a guardarvi dentro e andare poi ovviamente nell'ottica della luna piena opposta a Marte in bilancia per la prima quindicina del mese andare a cambiare tutte quelle abitudini volute da Marte in bilancia nel menage di coppia nelle comodità abitudini legate alla vanità no tutta una serie di convenzioni magari faziose che non fanno bene più alla vostra al vostro equilibrio psicofisico alla vostra salute e che questa luna in ariete opposta a Marte mette in discussione ok quindi in alcuni casi sarete costretti a guardarvi dentro perché il malessere e l'insoddisfazione che vi vengono dalle vostre vicende quotidiane ad un certo punto vi obbliga stando con le spalle proprio mette con le spalle al muro e quindi a un certo punto o vi dovete far aiutare o vi guardate dentro con facilità perché magari sapete già quello che trovate fatto sta che o a causa del malessere vi guardate dentro o a un certo punto questa luna apre un vaso di Pandora che vi farà vedere tutta una serie di desideri insperati e sarete obbligati a un certo punto a mettere in discussione tutta una serie di routine frequentazioni e ovviamente questa luna potrebbe portare anche delle novità dal punto di vista della salute come abitudini quindi come come cambiamento anche come necessità di prendersi cura di voi prendervi cura di voi ma anche lavorative voi sapete che quando c'è Giove l'anno in cui c'è Giove nel segno cambiano un sacco di cose se ci sono Giove e Urano è il cambiamento come dire quasi obbligato insomma ci dobbiamo ci dobbiamo come dire rassegnare e andare incontro al cambiamento se poi c'è il mese se poi questo collineo energetico si congiunge a fine mese quindi il 28 ottobre con la luna piena che per fortuna sarà piena su Giove e non su Urano è chiaro che questo sarà un mese che porterà delle piccole grandi rivoluzioni quindi no un processo di cambiamento di proprio di scardinare abitudini anche ripeto le cose legate alla salute proprio prendersi cura di voi rimpostare completamente la routine nella vita e mettere in discussione anche qualcosa al lavoro e poi a fine mese a fine mese quando ci sarà la luna piena in toro quello che volevate fare oppure la situazione sarà arrivata a una sorta di di completezza cioè la misura sarà colma saprete dove dovete andare dove vorrete andare e con quella luna poi opposta a marte in scorpione e vi sgancerete da qualcosa o da rete inizio a qualcosa sia in termini di lavoro o di nuovi contratti di nuove collaborazioni ma di quello ne parleremo negli altri video no quindi questo è un mese di elaborazione quindi sicuramente non è un mese tranquillissimo ok perché abbiamo detto che c'è forte la dicotomia tra la ribellione e il 30 anni le abitudini il lavoro la vita dei modi di fare pigri venusiani che forse incidono anche nella vostra salute quindi voi c'è l'equilibrio psicofisico che va risistemato rimesso in discussione la vostra interiorità e la vostra salute fisica vengono o anche ripeto in modo di vivere le relazioni vengono messi un pelino in discussione c'è qualcosa c'è qualcosa da cambiare proprio per riequilibrare quello che date agli altri e quello che volete per voi ovviamente uno non arriva al transito non arriviamo tutti allo stesso modo c'è chi ha dato troppo e quindi si riprende la propria parte c'è chi ha peccato di vanità di egoismo di abitudini di pigrizia e quindi a un certo punto gli viene chiesto il conto magari col partner magari verso se stesso perché si è trascurato magari lavorativamente parlando quindi è un mese della bilancia quello che abbiamo messo sul piatto in eccesso ci viene restituito e noi avremo il dovere e il compito di di risistemarlo ovviamente siccome sono delle dinamiche tra io e noi anche le relazioni di coppia vengono messe in discussione come stavo accennando prima anche nelle dinamiche e ci sono delle coppie che potrebbero decidere potrebbero riuscire a cambiare e delle coppie che arriveranno a fine mese e che si prenderanno magari delle pause potrebbe accadere questo soprattutto quando nella seconda parte del mese marte diventerà più ostinato quindi i primi 15 giorni il cielo sollecita gli amici del toro dell'ascendente toro a risistemare questi equilibri poi chi si rifiute fuori chi è da mercante con marte opposto dopo due anni sarà costretto a prendere atto della realtà contingente ok e a sistemarla perché comunque la buona notizia è che questa volta marte mentre due anni fa fu dissona ragazzi due anni fa ci fu un marte dissonante a saturno e a urano adesso marte sarà e anche questa luna saranno trigoni a saturno la luna sarà sestile e marte sarà trigono a saturno segno che un sacco di cose si sistemano e che addirittura quello che era saltato quello che si era rotto proprio nel 2021 soprattutto nell'autunno con una potentissima luna piena in toro opposta a marte e quadrata a saturno adesso si potrebbe finalmente sistemare quindi un sacco di cocci tornano in ordine però li dovete mettere voi ok quindi la prima parte del mese è a contare i cocci da sistemare la seconda non vi potete non vi potete tirare indietro ma se fate il lavoro che dovete fare sistemerete con grande impegno un sacco di cose e forse addirittura con la luna piena con la fine del mese di ottobre avrete dei risultati addirittura insperati chi lo avrebbe mai detto ovvio che qualcosa finisce e qualcosa comincia come sempre accade quando c'è marte in scorpione opposto ai valori in toro fatemi sapere per voi che cosa accade questo mese perché è un mese molto molto intenso con la luna nel vostro segno però sappiate non disperate perché c'è Saturno c'è Saturno in ottimo aspetto si mette in mezzo come un punto di talete quindi abbraccia e salva un po' tutti fatemi sapere nei commenti vi aspetto cari amici dei gemelli benvenuti all'oroscopo mensile di ottobre 2023 benvenuti a questa luna a questo corridoio energetico che inizia con la luna piena del 29 settembre luna piena in ariete che per voi porta un'energia a balanga nel settore degli altri delle amicizie dei colleghi del team della squadra se siete degli sportivi dei compagni di classe degli obiettivi no? vi vede molto focalizzati verso il raggiungimento di obiettivi verso un lavoro in team vi vede anche protagonisti di ruoli di comando di gestione una sorta di team leader e tutto questo purtroppo nella prima quindicina di ottobre metterà un po' in secondo piano il divertimento perché sarete molto impegnati l'amore il rapporto col partner gli sbaghi le passioni e le creatività però il settore dell'amore e anche dei figli ragazzi però il settore appunto dell'amore del partner degli sbaghi del divertimento della creatività è comunque molto sollecitato nella prima nella prima parte del mese quindi dovrete sarà un periodo molto movimentato però molto positivo per il vostro sole e il vostro ascendente in gemelli dovrete come dire salvare capra e cavoli cioè non non è un momento di tranquillità ma è un momento di grande vitalità è un momento di novità tante di quelle novità esterne che potreste anche come dire mettere in discussione una relazione sentimentale tra esistente essere indeciso fra due o più corteggiatori quindi un momento di grande vitalità che ovviamente ovviamente vi presenta nuove cose però poi voi dovrete dovrete fare una scelta a un certo punto nella seconda parte del mese dovrete comunque fare una scelta e decidere grazie all'ingresso di Marte in Scorpione che formerà che si congiungerà a Mercurio quindi al vostro governatore sarete chiamati a prendere una decisione a fare delle scelte a far morire qualcosa e a far rinascere qualcosa di nuovo dovrete decidere cosa è importante per voi cosa dura cosa è importante che duri cosa merita di rimanere nella vostra vita e cosa invece era una sorta di divertimento oppure era qualcosa che è stato importante ma ha fatto il suo corso questo perché perché nella seconda parte del mese ci sarà lo spostamento di Marte nel segno dello Scorpione congiungerà Mercurio che entra nel segno dello Scorpione e faranno uno formeranno un ottimo aspetto con Saturno che sarà retrogrado quindi la seconda parte del mese sarete chiamati a prendere una decisione ma non sarà qualcosa di urgente ovviamente poi a fine mese quando ci sarà la luna piena in toro congiunta a Giove dovrete scegliere quello che è meglio per voi e lasciare andare qualcosa la luna piena sarà se stile a Saturno che dopo 4-5 giorni tornerà diretto quindi insomma avrete la piena contezza di quello che è importante per voi a fine mese di ottobre 2023 e inaugurerete un novembre di scelte e di decisioni ok quindi questo è un mese molto molto particolare è un mese molto particolare che però serve a tutta diciamo è come se dovesse dare il là è come se fosse un vassoio dal quale voi iniziate a prendere degli ingredienti a operare delle scelte ma ovviamente è un preludio a quello che poi è un mese molto più intenso che sarà quello di dicembre quando da fine novembre diciamo a dicembre io ve lo spoilero ma almeno voi capite che cosa sta accadendo perché l'astrologia serve non per sapere che cosa accadrà perché quello lo determinate voi in base alle energie che si muovono anche con un certo anticipo così come dire vi organizzate poi il vostro mese sarà dicembre ci sarà la luna piena in gemelli vi dico assolutamente quando perché è bene saperlo ce la possiamo fare il 27 novembre ci sarà la luna piena in gemelli e quindi il corridoio energetico dell'oroscopo mensile diciamo anticipa di qualche giorno prima la luna sarà piena in gemelli il 27 e sarà in gemelli anche il 28 e quindi poi insomma dicembre sarà la conseguenza di tutto quello che questo mese di ottobre e novembre voi farete ma dove state andando amici dei gemelli fra pochi mesi ormai in maggio voi avrete dopo 12 anni il ritorno di giove nel segno quindi che questo iter cioè questo transito di giove in toro con urano e tutte queste queste lune questi appuntamenti mensili tutti questi corridoi energetici vi servano per uscire dalle vostre convinzioni per scardinare le abitudini che non sono buone per approfittare del transito che verrà di giove in gemelli che è un transito che arriva ogni 12 anni per rinascere a nuova vita ma per rinascere a nuova vita dovete ascoltarvi decidere prima chi volete essere quando rinascerete chi volete diventare o se vi va bene così cosa volete realmente consolidare della vostra vita e questo inevitabilmente anche se non è esattamente nella vostra natura prevede anche una presa di coscienza e un discorso di introspezione ok ed è quello che per esempio questa luna vi fa fare questo corridoio energetico questo mese di ottobre vi chiede vi chiede di così di elaborare e di imparare a ripartire in maniera più equilibrata ritrovare un equilibrio tra l'amore il sentimento la creatività la seduzione che vi piacciono tanto l'eros e anche quella spinta vitale delle amicizie del team che comunque è la vostra linfa vitale perché voi siete degli animali sociali siete dei figli di mercuro e siete fatti anche per stare in mezzo alla gente e per comunicare quindi per voi è importante è importante essere attivi essere in mezzo al mondo e divertirvi e avere anche un'isola sentimentale no un angolo ricreativo dove dove esprimere un altro tipo di energia quindi prima parte del mese dovete trovare questo equilibrio seconda parte del mese ovviamente avendo lavorato molto su questa cosa dovrete avendo dovuto faticare per trovare un equilibrio tra due cose che di solito così vivete un po' caoticamente ovviamente la seconda parte dovrete lavorare nel pratico nella vostra realtà per inserire quotidianamente quel nuovo equilibrio quelle nuove decisioni che avrete che avrete deciso quindi ci sarà un ci saranno dei cambiamenti ci saranno dei cambiamenti nella vostra quotidianità un giorno alla volta un passo alla volta proprio work in progress per riprogrammare il vostro quotidiano quindi la seconda parte del mese riprogrammare il vostro quotidiano e da quello che deciderete giorno per giorno voi vi conoscerete veramente e scoprirete chi siete davvero con questa nuova consapevolezza il mese di novembre poi sarà come dire la degna conseguenza della conoscenza che avete fatto questo mese con con voi stessi e che ovviamente deve continuare quindi un mese molto interessante con due energie completamente differenti una più dinamica e l'altra più di d'intuito di di elasticità di dimensioni di di finezze fatemi sapere nei commenti come volvi perché questo è un mese è un mese molto 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 particolare l'amore dovrebbe essere molto intenso anche le new entry anche i colpi di fulmine quindi insomma io faccio il tipo per voi vi aspetto nei commenti e vi mando un grande bacio cari amici del cancro cari amici con l'ascendente cancro anche amici con la luna in cancro perché insomma chi più di voi chi più di chi ha la luna in cancro è un cancro sotto ventite spoglie qualsiasi sia il suo segno zodiacale allora cari amici mese di otto benvenuti al mese di ottobre 2023 un mese che si divide in due proprio la prima quindicina ha un'energia la seconda quindicina ha un'energia completamente diversa la seconda quindicina con luna nuova in bilancia il 14 marte che esce dalla bilancia entra in scorpione fa si congiunge a mercurio forma trigono con saturno insomma vabbè quella era per per gli appassionati di astrologia per i non addetti la seconda parte è una parte di conquista di ricostruzione di crescita di potenza di amore di eros proprio di aumento dell'energia di persone situazioni cose favorevoli a voi che vi danno una mano a raggiungere i vostri obiettivi ma affinché ci sia una parte come dire di ricostruzione crescita e conquista significa che nella prima quindicina bisogna mettere in discussione un po' di cose e cambiare degli assetti voi siete un segno cardinale per chi non lo sapesse ariete cancro bilancia e capricorno sono i quattro segni cardinali cosa significa che sono innanzitutto quei segni che corrispondono all'inizio ciascuno della nuova stagione quindi l'ariete la primavera il cancro l'estate la bilancia l'autunno e il capricorno l'inverno avendo l'energia del segno cardinale quindi dando inizio inaugurando le stagioni significa che voi siete tra coloro che hanno la forza di cambiare le cose ok quindi se iniziate qualcosa voi questa cosa avrà dei riflessi su altre persone nel senso che avete proprio l'energia cardine per far sì che finisca un passato e qualcosa di nuovo diventi la nuova consuetudine quindi diventi un nuovo cardine ora questo mese è scardinante nel senso che inizia con luna piena in ariete in ariete gli inizi potrebbe risorgere qualcosa che magari si era renato quando c'era giove in ariete altro transito cardinale abbastanza impattante no marte nella prima quindicina la luna in ariete che spinge a affinché voi conquistiate delle nuove tappe delle nuove consapevolezze conquiste perdonatemi la cacofonia la luna piena in ariete si scontra con marte in bilancia altro pianeta in segno cardinale cosa significa che le abitudini le convenzioni le ipocrisie le ipocrisie anche nell'ambiente familiare anche nel rapporto di coppia anche quei modi di sedurre che non vanno bene più oppure quelle dinamiche sensuali di conquista di seduzione relazionali di matrimonio di coppia legate all'apparenza all'ipocrisia a tutte quelle che possono essere le ottave basse della bilancia anche alla facciata a far vedere a dimostrare dei sentimenti solo per facciata no oppure a usare la propria bellezza il proprio fascino oppure i sentimenti per conquistare per ottenere qualcosa quindi tutte quelle che possono essere le ottape basse di Marte in un segno venusiano saranno scardinate ovviamente non tutte perché altrimenti con una luna piena all'anno in ariete l'umanità evolverebbe alla velocità della luce e invece insomma noi siamoci la verità siamo di comodo siamo di coccio dove non siamo di comodo siamo di coccio dove siamo tutti e due che ve lo dica fa quindi però laddove la misura è colma laddove l'asticella è arrivata a una situazione di un ritorno questa luna piena agli amici del cancro agli amici con l'ascendente cancro agli amici con la luna in cancro darà quell'energia impattante per dire ma sì ma basta basta con queste convenzioni trite e ritrite basta con questi modi di fare troviamo cerchiamo l'autenticità ok e questo potrebbe accadere in famiglia lavorativamente parlando nel matrimonio nelle convivenze con i figli con i familiari con l'ambiente nel quale abitate anche con una casa anche con un immobile no potreste essere stanchi di essere in un posto e lasciarvi andare quindi luna piena in ariete opposta a marte laddove troverà lo sbocco perché poi insomma ci sono delle situazioni che invece sono ancora intoccabili no quindi dipende da come ci arrivate se siete se le maglie no della vostra consapevolezza dell'energia sono abbastanza lente l'energia si infilerà se invece siete ancora chiusissimi in vecchi cliché vecchi modi di fare anche se e forse non sapete ancora che non ne potete più allora questa luna sicuramente inizierà a premere a premere a premere su una diga che magari il prossimo anno o fra due quando giove arriverà nel segno del cancro deflagrerà per adesso insomma dipende dal punto di non ritorno al quale siete quindi primo mese prima quindicina del mese spinte 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 ad emanciparvi a conquistarvi ad uscire da cose che non servono più ad affermarvi a trovare una vostra individualità rispetto alla famiglia all'educazione ricevuta rispetto no a tutte le dinamiche del clan di cui si sa che il cancro è figlio testimone e tecnicamente dovrebbe anche essere un trasformatore no quindi momento dinamico chissà che cosa porterà chissà che cosa porterà fatemelo sapere nei commenti mercurio mercurio sarà in bilancia quindi ci saranno ci saranno proprio delle due o tre settimane centrali di anche di polemiche no di decisioni di di indecisioni di non sapere cosa fare alla fine il 14 con la luna nuova in bilancia marte entra nel segno dello scorpione inizia a darvi una grande forza e l'amore l'amore per la vita un amore autentico la creatività la passione la fortuna una passione non soltanto per le persone ma anche per la creatività arriverà a questo fiume in piena prepotente viscerale sarà la nuova vita vi porterà vi darà la forza di non essere più neanche indecisi perché nella prima quindicina ovviamente ci sarà l'effetto della luna piena in ariete di rompente e voi che cercate di non complicarvi troppo la vita e di mantenere lo status quo poi dal 14 arriva marte in scorpione marte farà trigono a saturno saturno è retrogrado quindi cominciate a ingranare come dire a creare la nuova realtà a vederla quindi a fare delle scelte a capire che direzione prende poi ragazzi il mese finisce con una luna piena in toro congiunta giove che porterà a galla come dire palesemente quello che è quello che deve essere e poi dal 4 novembre ve lo spoilerò perché ve lo devo dire saturno diventerà diretto quindi andrete finalmente a gonfie vele verso una nuova realtà a 360 gradi quindi voi la fortuna busserà alla vostra porta tramite qualcosa di molto esuberante qualcosa di molto forte qualcosa di molto di impatto io vi auguro di saper cavalcare quest'onda perché ragazzi dobbiamo comunque lo so che voi siete molto legati al passato però la vita è un fiume e dobbiamo comunque essere acqua che fluisce e non roccia quindi vi auguro la fluidità per andare incontro alla vita vi aspetto nei commenti fatemi sapere che belle novità arrivano un bacio cari amici del leone cari amici con l'ascendente leone benvenuti all'oroscopo di ottobre 2023 perché per voi c'è tanto di quell'amore in entrata tanta di quella di quell'energia conciliatrice armoniosa che cerca di riportare di ripristinare equilibri che riporta pace che anche nelle vostre comunicazioni quindi notizie situazioni che mi la mi la conferma notizie che contribuiscono anche incontri anche persone che si avvicinano a voi che arrivano nella vostra vita per per portare no una sorta di distensione una sorta di pace una sorta di amore a 360 gradi può accadere nel lavoro può accadere in famiglia può accadere con i fratelli può accadere col partner possono esserci dei ritorni possono esserci delle questioni legali che si sistemano delle questioni burocratiche c'è un momento fantastico già già dovreste aver notato con Marte in bilancia diciamo nell'ultima nell'ultima fase di settembre dovreste aver notato una voglia già da parte vostra probabilmente anche se a volte poi l'esterno ci fa da specchio quindi uno non si rende conto di desiderare qualcosa così tanto ma ne provoca come dire l'avvenimento quindi in un dot adesso in uno scambio di energia tra voi e la vita è probabile che già in settembre sul finire di settembre magari nella seconda quindicina grazie a Marte in bilancia favorevole è iniziata quella è finita quella fase di chiusura di eccessivo razionalismo di quel farsi bastare quello che avevate e fare quello che potevate insomma che era molto vi faceva sentire molto ristretti molto risicati molto sacrificati c'era un'energia non esattamente confacente a quella che è la vostra vibrazione media che comunque è solare legata all'abbondanza al benessere e al brillare quindi c'è stato sicuramente un momento in estate di sacrificio quella fase dovreste aver già notato che è finita grazie a Marte in bilancia in settembre quindi già qualcosa già c'è stata o un moto di voi verso un'apertura verso un confronto con qualcuno oppure la vita ve lo ha portato rispondendo ad un vostro tacito desiderio ma già avevate probabilmente vi eravate interfacciati con qualcuno che vi aveva portato amore che vi aveva portato una ventata di serenità conciliazione qualcuno che vi aveva forse tolto anche dei pesi dalle spalle o comunque si è presentata questa eventualità di alleggerirvi un attimo quindi una sorta di aiuto e ovviamente poi con l'equinozio d'autunno quindi con l'ingresso del sole quindi siamo sempre in settembre il sole che entra nell'amico segno della bilancia e l'energia attiva diventa young poi questo mese il 5 mercurio il 5 ottobre mercurio per circa 18 giorni sarà entra nel resta nell'amico se entra nel segno della bilancia e quindi le notizie i chiarimenti le distensioni i miglioramenti le soluzioni armonia pace inizio di qualcosa di molto positivo avvengono si dovrebbero veramente si dovrebbero veramente manifestare avete ancora la venere avete ancora la venere fino al 9 ottobre nell'amico segno della bilancia quindi se dovete fare qualcosa diciamo che i primi dieci giorni i primi nove dieci giorni di ottobre soprattutto per quanto riguarda iniziative da parte vostra beh posso consigliare sicuramente di preferire la prima parte i primi dieci giorni di ottobre appunto per tentare delle iniziative fortunate ovviamente molte cose con questo cielo con questa vibrazione di di armonia di amore di giustizia molte cose o comunque una buona parte delle cose dovrebbe già sistemarsi dovrebbe naturalmente trovare una sua sistemazione una sua armonia quello che non si riesce a sbloccare vuol dire che richiede un vostro intervento e quindi sicuramente nei primi dieci giorni di ottobre anche con venere favorevole in ottimo aspetto con lo stellium in bilancia effettivamente l'energia è altamente gratificante dal 10 ottobre al al 31 al 31 ottobre la venere entra in vergine quindi sicuramente la voglia di brillare la voglia di stare al centro dell'attenzione magari scende un attimo si diventa un pochino più razionali si scende un'ottava in meno però voi continuate sicuramente a brillare le iniziative sono comunque fortunate sicuramente la seconda parte del mese assume delle connotazioni meno dolci ma più di come dire di impatto e di grinta perché diciamo che con il 10 l'ingresso di venere nella vergine il 14 marte nel segno dello scorpione in ottimo sestile tra di loro continuano a sistemare le questioni sentimentali perché due pianeti sentimentali dell'amore dell'eros della sensualità dell'energia venere e marte sono in ottimo connubio formano un sestile però diciamo che l'energia cambia diventa un po' più pragmatica meno meno dolce meno leggera meno di aria più strong e si sposta soprattutto si toglie un po' quella vena giocosa no? quella vena giocosa di bilancina anche di di ferie di vacanze di tempo libero di coccole di affettuosità si ritorna un po' alle cose pratiche ma è sempre tempo di conquiste perché uso il termine conquiste perché tutto il mese di ottobre 2023 per gli amici della bilancia è attraversato da un corridoio energetico che va dalla luna caratterizzato dalla luna piena in aria del fine settembre del 29 settembre e termina con la luna piena in toro del 28 ottobre tutte le cose che vi ho detto sono come dire tutto quello che vi ho anticipato finora l'armonia l'amore che ritorna servono proprio si sviluppano proprio nell'ottica di questo corridoio energetico il corridoio energetico caratterizzato che va di ottobre diciamo dalla luna in aria dalla luna piena in aria e la luna piena in toro per voi è una è un corridoio energetico di grandi conquiste di superamento di limiti personali di acquisizione di nuove nozioni quindi informazioni per quello vi parlavo di notizie che vengono a voi persone che vi aiutano che vi portano delle nuove nozioni e tutte queste informazioni no tutta questa tutto questo tutta questa forza questo amore che vi queste vibrazioni alte che vi arrivano e che vi fanno superare un passato più pesante e vi fanno andare verso una rinascita anche del modo di vivere degli affetti del vedere la vita e porterà nella prima parte del mese amore armonia giustizia quindi vi farà sistemare delle cose magari legate al passato oppure si vanno a colmare dei vuoti che si erano creati nel passato e poi ovviamente quando l'energia quando avete finito di fare di apprezzare questo momento di amore potrete scendere nella pratica con la venere in vergine e marte in scorpione e andare a realizzare quindi prima mettere a posto delle cose dentro di voi prima amarvi di più e poi iniziare a muovervi e iniziare a mettere ordine nell'asse casa immobili famiglia e aspirazioni ci sarà poi alla fine del mese la luna piena in toro su giove che sta cambiando molto le aspirazioni ne parleremo nel mensile di novembre però l'ottica nella quale vi state muovendo è che questo mese sistemate le cose dentro di voi arriva un'energia nuova nella vostra vita che va a riempire dei buchi che forse non sapevate neanche di avere e poi si passerà al lato pratico e materiale quindi vi faccio un grande in bocca al lupo fatemi sapere nei commenti come vanno le cose buon mese di ottobre cari amici della vergine cari amici con l'ascendente vergine benvenuti all'oroscopo di ottobre 2023 il 5 ottobre venere entra nel vostro segno contemporaneamente il 29 settembre una luna piena in ariete si forma nel vostro settore dell'eros insomma no anche del karma familiare e del rapporto con lo stato di quello che voi volete avere dagli altri però insomma ecco se dovete aspettare qualcosa dagli altri se vi aspettate qualcosa dagli altri quello che potrebbe arrivare sono delle soddisfacenti gratificazioni in termini credo di sensualità di nuove storie vista questa esuberante luna piena insomma in ariete che potrebbe riportarvi una botta di vita soprattutto di esuberanza proprio di vitalità di energie primarie di voglia di abbandonare di fuoco ragazzi di fuego che voi siete molto razionali magari no a volte tendete a controllare insomma poi con i transiti che ci sono noi sappiamo che la vergine sta facendo insomma un incontro di pugilato con saturno contro saturno opposto quindi questa è una luna piena questo è un corridoio energetico di grande vitalità di rinascita di qualcosa può essere una rinascita personale se una persona ha lasciato andare qualcuno e come rinascita personale siccome c'è la venera nel vostro segno per tutto ottobre 2023 chi ha fatto chi ha chiuso delle situazioni o chi le sta chiudendo adesso percepirà un amore per se stesso un fascino una cura di sé una bellezza una sorta di guarigione no good vibe che arrivano sulla vostra persona questo vale sia perché il sole è l'ascendente il sole è l'ascendente vergine anche per la luna perché me lo chiedete anche per la venere quando venere che il pianeta dell'amore della bellezza degli agi e della piccola fortuna si sposa su un vostro punto personale importante è chiaro che se ne risente sarà supportata anche da Marte dal 14 quindi iniziate a sentire magari questa sottile voglia di piacere di più di piacervi di prendervi cura di voi stessi di riaprirvi all'amore oppure arrivano dei corteggiatori arrivano delle persone che vi vogliono bene arriva amore arriva amore arriva bellezza nella vostra vita qualcosa inizia a migliorare anche una guarigione fisica no? psicofisica perché si sa che quando c'è Saturno contro non è tutto carnevale di Rio anzi spesso non lo è quindi è importante questa cosa e i buoni allora di solito la venere è un pianeta molto veloce e di conseguenza nonostante la sua natura bonaria non riesce proprio a trasformare la nostra vita cioè ci fa attraversare come una cometa un buon periodo ma ci sono delle configurazioni particolari in cui il cielo la sostiene trova dei pianeti a sostenerla e quindi la sua energia viene raddoppiata triplicata e rafforzata e quindi quello che porta non è soltanto così una ventata di miglioramento un sospiro di sollievo e un mese di ecco questo mese bene o male le cose sono andate bene porta qualcosa di più cioè qualcosa che riesce a farci sollevare l'asticella a migliorare la nostra realtà a darci la possibilità perché ovviamente poi il gioco insomma è un doubt death con la vita Dio propone l'uomo risponde no l'uomo propone e Dio risponde il contrario nel senso che comunque è una metafora anche se non si è spiritualmente credenti è una metafora per dire che comunque 50 e 50 uno sforzo un'apertura un movimento un'azione dobbiamo farla anche noi cosa accade che il 5 arriva venere quindi c'è questa grande esuberanza del corridoio energetico in ariete che vi ridà nuova vita proprio nuova vitalità nuova voglia di venere entra il 5 il 14 marte entra nel segno amico dello scorpione quindi come se fino al 14 avete queste intenzioni magari no e a un certo punto avete queste volontà a un certo punto l'esterno comincia a rispondere quindi oltre allo sguardo oltre alla proposta oltre le cose iniziano a farsi concrete e iniziate parallelamente a sentirvi veramente meglio quindi c'è questo connubio tra la venere marte ma io sfido io vi sfido e lo vorrei sapere nei commenti a dirmi se già dall'ingresso di venere in vergine in realtà anche prima che le cose accadano la situazione inizi a migliorare quasi miracolosamente per il trigono che comunque venere forma a giove ragazzi trigono di venere a giove e insomma qui e poi arriva marte notizie incontri positivi e la possibilità oltre a questa vitalità ritrovata che poi si prospetterà probabilmente nella seconda parte del mese e si svilupperà poi nel mese successivo ve lo spoiler per farvi capire come sta andando questo autunno 2023 potrebbero accadere cose che cambiano la vita qui abbiamo nuovi scenari soprattutto per chi grazie o a causa di saturno opposto ha dovuto in qualche modo chiudere delle cose del passato no? fare spazio però noi sappiamo anche che le cose vanno come devono andare quindi se qualcosa è proprio terminato se qualcosa non decolla se dobbiamo insistere non è la nostra taglia ok? quindi approfittare di queste situazioni altamente sfilacciate che però occupano gran parte della nostra del nostro cuore dei nostri pensieri no? e che quindi impediscono di dedicarci al bello e al nuovo della vita ecco quando ci sono delle energie come quelle di saturno che ci fanno retrogrado opposto che ci fanno capire quasi in ogni modo che certe cose proprio non andavano fatte no? cioè non decollano non sbocciano e inizia ad arrivare un'energia di rinnovamento così forte beh il nuovo dovrebbe avere la forza di riempire il vostro cuore anche i vostri pensieri e di sostituirsi al vecchio quindi anche la vostra predisposizione cercate di ascoltare il cuore cercate di ascoltare lo so che siete degli esseri altamente razionali però cercate di ascoltare il cuore di andare incontro a quello che vi porta pace e voi vedrete che si potrebbero risolvere chiarire grazie anche a Giove retrogrado trigono alla venere delle cose rimaste in sospeso e trovare voi delle collocazioni nel mondo fatemi sapere nei commenti quante vergini andranno lontano soprattutto nella seconda parte di questo di questo ottobre 2023 e per lontano intendo a parte dei gioiosissimi viaggi anche dei trasferimenti delle occasioni di lavoro che vi conducono un po' più lontano rispetto a casa o un po' più lontano o in un luogo diverso da quello in cui vi trovate adesso ovviamente questo è un discorso che non vale per tutti Saturno per tutte le vergini per tutti gli ascendente vergine per tutte le lune in vergine opera dove deve operare se arrivasse un transito se bastassero due anni e mezzo tre anni di un Saturno contro per potare tutti i rami inadeguati nella nostra vita ragazzi noi non non reggeremo l'urto ok quindi siccome l'universo ha un'intelligenza perfetta un'armonia perfetta che fa accadere le cose quando le possiamo gestire è chiaro che ci sono dei settori nei quali sta pulendo e degli altri nei quali le cose non non accadono quando diciamo è tutto fermo è tutto fermo è tutto fermo e me lo state scrivendo in tanti significa che c'è anche resistenza da parte vostra e magari non accettazione quindi c'è un gioco forza con la vita c'è una c'è una sfida c'è non accettazione dove siamo in grado di arrivare di capire che le cose non vanno cerchiamo di lasciare andare che non vuol dire che quel progetto o quella situazione sono completamente negativi forse forse li dobbiamo ripensare forse forse questo è il tempo di less is more forse volevamo troppo e invece si può trovare una una soluzione più piccola di sicuro con Saturno contro per vivere adeguatamente ma ripeto c'è un cielo molto interessante che aiuta anche a capire questo suggerimento che vi sto dando con Saturno contro il bello perché c'è sempre del bello anche nei transiti sfidanti è che forse arriva forse perché dipende molto da noi arriva il momento in cui si possono lasciare i pesi a volte la vergine lo fanno tutti i segni ma la vergine l'ascendente vergine la luna in vergine si caricano sulle spalle dei fardelli che non sono loro per questo per il troppo amore per questo desiderio di mettere ordine invece le responsabilità devono essere lasciate anche a chi ci ha preceduto anche a chi a chi spetta quella responsabilità e a chi spetta quel lavoro quindi cercate di fare solo il vostro cercate di amarvi e di lasciare i pesi questo voi vedrete che questa volta sarà possibile voi vedrete che questo che questo mese sarà utile a tutti voi per anche per trovare l'aiuto anche per trovare nuovi strumenti per andare lontano usiamo saturno come meglio che venga usato e si apriranno delle porte veramente veramente interessanti e di rinascita quindi buona rinascita a voi fatemi sapere nei commenti quante belle cose arrivano da marte venere e giove perché è un è un aspetto molto particolare con un bel punto di talete e un grande in bocca al lupo per questo mese vi aspetto nei commenti cari amici della bilancia e cari amici con l'ascendente bilancia benvenuti all'oroscopo di ottobre 2023 di spazio indaco benvenuti ad un mese che anche per voi ha due tipi di energia si divide un po' a metà e vi vede tra i protagonisti vuol dire più coinvolti dall'energia che si muove per le prime due settimane quindi fino al 15 fino al 14 e il 15 ci sarà il cambio di marte avrete marte su sole ascendente anche se siete delle lune in bilancia anche se state ascoltando questo oroscopo per quanto riguarda la venere in bilancia altri pianeti personali che poi sono altri venere marte e mercurio c'è marte c'è il ritorno di marte dopo due anni nel vostro segno questo ovviamente siccome voi siete delle nature venusiane quindi siete per la pace per l'armonia è chiaro che poi soprattutto voi siete alla ricerca dell'equilibrio un equilibrio che è più cercato spesso che introspettivo che interiorizzato cioè dentro può esserci un'alternanza di ragione e sentimento però insomma fuori voi cercate in tutti i modi di trovare un'armonia con marte in bilancia è chiaro che c'è un periodo di un po' di polemiche di battibecchi di tensioni innanzitutto con gli affetti no? entra marte nel regno nel regno di venere con gli affetti con l'amore se siete dei creativi anche ovviamente nel lavoro quindi grandi indecisioni anche nelle società nei rapporti di lavoro e anche in tutto quello che è giusto che è legge quindi non soltanto quello che è coppia no? o bello indecisione fra due cose anche quello che è legge faccio questo non faccio questo chiudo apro e lo faccio con tizio mando fuori caio no? c'è c'è una forte indecisione e ovviamente potreste essere più nervosi del solito questa c'è questa cosa allora tutta una serie di buone notizie innanzitutto fino al 9 10 fino al 9 via c'è venere il vostro governatore che è in ottimo aspetto fondamentalmente stato anche quando era retrogrado insomma un po' più complicato è stato un ottimo aspetto venere e leone per molti mesi dai primi di giugno fino al 9 ottobre quindi è stato un transito eccezionale che probabilmente molto probabilmente per gli amici della bilancia dell'ascendente bilancia con i valori personali in bilancia è riuscito a questa venere questo lungo transito è riuscito a riportare un po' di pace un po' di splendore un po' di di luce di brillio che poi è quello che vi piace tanto vi piace anche quando fate i morigerati perché l'esaltazione di Saturno che insite in voi comunque vi rende responsabili e doverosi di un certo aplomb insomma vi piace stare al centro dell'attenzione vi piace essere apprezzati vi piace che vi si riconosca il giusto valore la giusta i giusti talenti no anche il giusto ruolo la vanità quindi questa venere vi ha gratificati vi ha fatti stare al centro dell'attenzione da settembre da quando Marte è entrato nel segno della bilancia è riuscita a farvi conciliare no vi ha nonostante il nervosismo questo connubio positivo tra venere e Marte vi ha permesso di trovare un giusto compromesso al nervosismo alle indecisioni insomma ha steso un manto di positività di regalità ha un'energia comunque tumultuosa che vi ha che vi ha scossi che vi ha sicuramente scossi e che aveva comunque un ruolo perché quando arriva Marte non è soltanto per rompere le scatole ma è innanzitutto per farci vedere come stiamo perché Marte è un'energia che comunque dura almeno 45 giorni se non c'è un transito straordinario ok quindi dura a sufficienza per andare a smuovere quelle energie quel nervosismo quelle emotività che innanzitutto abbiamo dentro perché non è che c'è le regali o un transito crei qualcosa che non esiste ha proprio il compito di permetterci di permettere all'energia di muoversi di venire su di farci dire anche quelle cose che magari quando siamo dei segni delle personalità troppo concilianti troppo diplomatiche troppo troppo gentili non riusciamo a dire no? e quindi si possono accumulare anche delle energie stagnanti e anche qualcosa sul gruppone che poi insomma può far somatizzare quindi l'energia è venuta a galla può essere venuto su qualche malessere perché quando c'è perché quando c'è Marte capita che bisogna rivolgersi alle cure cioè c'è molta energia c'è anche molta tensione intorno a noi quindi dovremmo anche prenderci cura di qualcosa nel senso che proprio l'energia ci spinge ad intervenire se non è su di noi è intorno a noi quindi è proprio un'energia di intervento di attività di fare cose straordinarie non va a movimentare proprio l'ordinario finché c'è il connubio di Venere c'è una sorta di protezione quindi qualsiasi problematica questo Marte va a sollecitare io trovo qualcuno qualcosa una situazione che in qualche modo mi danno la spiegazione la guarigione la risoluzione la parola giusta quindi se si sono verificate queste cose sappiate anche che Venere vi ha protetti e che Venere cambia segno ed entra in un in un domicilio un po' più critico un po' più di sacrificio che è quello della Vergine però Marte sarà in bilancia per una sola settimana è come se foste scoperti una una sola settimana dal ma neanche cinque giorni dal cinque al al quattordici poi il quattordici Marte entra nello scorpione che è un segno d'acqua ma almeno Marte non è in bilancia è in domicilio cioè non è in una posizione sfavorevole è in una posizione favorevole quindi c'è l'esuberanza il movimento la tensione dei primi quindici giorni e poi c'è il momento più introspettivo perché comunque Venere in Vergine Marte in Scorpione sono grandi amici collaborano sistemano delle cose quindi ci saranno nella prima parte del mese si creano come dire gli eventi le situazioni da da risolvere da far evolvere arriva la novità cioè tutta questa energia tutta questa energia dinamica che si è concentrata su di voi e intorno a voi apre nuovi scenari ok la seconda parte del del mese serve a iniziare a organizzare programmare anche una nuova vita proprio con questi nuovi scenari no quindi ci sono delle ci sono dei cambiamenti no ci sono delle c'è un'energia sempre in movimento la via la vita è sempre in movimento quindi non se c'è una stasi è apparente sotto le energie si muovono tanto è vero che è sempre meglio risolvere le cose perché l'energia non è mai ferma e le cose o vanno indietro o vanno in avanti o migliorano o peggiorano insomma quindi l'energia non è mai ferma la vita è un fiume questo dobbiamo ricordarcelo in quest'ottica cioè questi due movimenti che accadono ma che nei quali questi due movimenti di Marte che vanno a scombussolare la vostra persona e la realtà intorno a voi che la vanno a movimentare no anche un po' a scombussolare via la vostra persona nei primi 15 giorni e in realtà è un processo che va da settembre e poi va a portarvi a organizzare le vostre risorse no e quindi quello che dovete fare con quello che avete in virtù no di nuovi scenari avviene nell'ottica di di un come dire di un corridoio energetico caratterizzato dalla luna piena in ariete che proprio nei giorni diciamo del sole in bilancia quindi in quello che è il vostro calendario in quello che è il vostro mese in quello che è il vostro mese del compleanno nel calendario annuale è il ritorno del sole in bilancia e quindi è il momento di bilanci e soprattutto inizia una nuova fase iniziano è il vostro capodanno insomma fondamentalmente no e con la luna piena in ariete questo capodanno ci dice allora premesso tutti gli anni la luna piena in ariete c'è per la bilancia nel segno nel mese del suo compleanno quindi nel mese del suo diciamo capodanno quindi non è un un attentato cioè non è un avvenimento terroristico no però quest'anno c'è marte ok quindi una luna in sé una luna piena in segno marziano opposta a marte sul vostro segno che significa che si apre un corridoio energetico che vuole che questo capodanno questo nuovo anno questi nuovi 365 giorni che si aprono per voi abbiano il sapore di novità no di cambiamenti un po' più strong del solito che possono riguardare i contratti le relazioni e le società no quindi comunque è anche la legge i processi quello che nella vostra vita regola il vostro voi stessi la vostra persona il vostro personaggio le vostre emozioni rispetto agli altri e anche alle questioni legali cosa può significare cosa potrebbe volere una luna ovviamente non si l'energia è questa no l'energia è dinamica quindi c'è un nuovo inizio una luna piena cardinale primaverile che quindi segna un come ce l'avete tutti gli anni un nuovo inizio contro un marte che è indeciso che significa che è molto probabile che chi deve prendere delle decisioni che finora ha non si è preso delle responsabilità non si è preso la responsabilità di decidere ha cercato in maniera diplomatica a volte anche ipocrita perché vuole raccontentare tutti ha un retrogusto di ipocrisia chi ha indugiato troppo nel non pronunciarsi nel non prendere una posizione nel non agire adesso potrebbe essere portato a doverlo fare chi si è ostinato un po' troppo potrebbe essere lasciato solo questo significa che magari il datore di lavoro che non ha assunto il dipendente la persona che aveva che aveva una relazione ma ha cercato di preservare le proprie comodità i propri egoismi la propria la propria libertà e di tenere legata la persona promettendo rimandando sempre potrebbe essere messo o davanti a un out out o lasciato solo ok ovviamente la vita ci risponde in base a quanto abbiamo esagerato ok quindi veniamo rimessi a posto nella misura in cui siamo andati fuori posto è abbastanza calibrata la risposta che arriva quindi qualcuno potrebbe uscire luna piena in ariete nel settore opposto al vostro qualcuno potrebbe uscire dalla relazione qualcuno potrebbe avere potrebbe uscire da un rapporto di società da anche proprio scusate è blu che tenta delle scalate però ce l'ha fatta se proprio vogliamo leggere se vogliamo fare come gli sciamani e leggere gli eventi insomma ha guadagnato un nuovo podio vi dirò vi faccio la cronistoria dei movimenti felini quindi e c'è chi c'è chi magari viene lasciato al palo ragazzi se uno se ne approfitta è lasciato troppo e invece c'è chi ha indugiato un pochino no ha aspettato le sollecitazioni di Marte in bilancia ha indugiato un pochino e a un certo punto osa il lancio quindi esce da relazioni da società da contratti lavorativi ma anche da amicizie anche da modi di fare relazionali che non lo non lo non la rispecchiano più quindi c'è una sorta di individualismo c'è una sorta di slancio anche a mandare a quel paese quelle buone maniere eccessive quel conformismo no quella quel buon viso a cattivo gioco che sempre vi contraddistingue e lanciarvi in qualcosa nel quale pensate solo a voi e soprattutto non ve ne fregate delle critiche ve ne fregate del giudizio ok del giudizio altrui perché poi fondamentalmente questo voler tenere sempre questo non prendere mai posizioni scomode questo voler accontentare così in maniera affabile tutti magari nasconde anche un bisogno di piacere e di non ricevere critiche quindi di non prendere delle posizioni scomode quindi qualcosa si altera delle equilibri si alterano delle quello che proprio è morto e sepolto c'è delle energie proprio stagnanti stagnanti con un saturno retrogrado in pesci non si reggerà più c'è chi invece riuscirà a salvare capo e cavoli ricordatevi sempre che ad ogni compleanno ad ogni luna piena ad ogni transito importante la differenza la fa il modo in cui ci arriviamo se noi siamo pronti a lasciare andare qualcosa a cambiare la nostra vita quindi se noi abbiamo le energie sufficienti affinché questo accada in qualche modo una sollecitazione così importante lo permetterà se siamo alla frutta se non riusciamo a risalire da tutti gli avvenimenti che ci sono accaduti e commettiamo il grosso errore di non farci aiutare dall'esterno e adesso nell'era dell'informazione nell'era delle consulenze online veramente rinunciando a qualcosa ciascuno di noi può fare qualcosa per sé poi ognuno deve trovare la strada giusta perché ognuno ha la sua c'è chi funziona la psicoterapia chi funziona lo sciamano chi funziona non lo so qualsiasi cosa le ho sentite di ogni trova basta che funzioni basta che sia etica che ovviamente no non faccia del male a nessuno e che funzioni se siete nella condizione di essere arrivati con questo marte vi ha finiti di stendere ragazzi vuol dire che da soli ragazzi e ragazzi amici e amiche vuol dire che da soli non ce la fate da sole non ce la fate a far entrare amore per voi stessi a far risalire il livello dell'acqua e quindi dovete immettere nella vostra vita approfittando anche di questi transiti belli di sollecitazione un po' di energia positiva in più comunque fuori disposta ad aspettarvi perché quando ci sono i nuovi inizi i nuovi inizi avvengono principalmente e soprattutto grazie all'energia che è fuori e dentro di voi quindi mese diviso in due prima fase esuberante seconda un po' più introspettiva vi ho dedicato quasi un quarto anzi no un quarto d'ora abbondante spero che vi sia utile perché è il mese più sfidante fatemi sapere nei commenti come vanno le cose e un grande bacio cari amici dello scorpione cari amici con l'ascendente scorpione benvenuti all'oroscopo di ottobre 2023 benvenuti ad un mese che anche per voi è diviso esattamente in due perché nelle prime due settimane marte è nel segno della bilancia marte e altri pianeti veloci poi nella seconda parte attraverso tutto un avvicinamento molto veloce che accade diciamo nella settimana tra il 10 e il 15 ci sono dei come dire un'evoluzione di energia quindi prima settimana prime due settimane prima parte del mese per voi indecisa tesa altalenante contraddittoria con una grande con un grande conflitto interiore perché voi state meditando di prendere delle decisioni siete indecisi sapete com'è avreste voluto vorreste ancora oggi probabilmente salvare caprecavoli tenervi un po' tutto parlo di corteggiatori parlo di convenienze parlo di adulatori parlo di vantaggi forse di lavori c'è qualche situazione dentro di voi ovviamente questo è una sorta di malessere tensione che gira veramente da fine agosto però quello che smuoverà veramente le acque probabilmente accadrà in questo mese cioè l'essere finora probabilmente molti di voi sono riusciti a mantenersi in silenzio a non fare troppi danni a salvare caprecavoli questo probabilmente è accaduto perché Marte in bilancia era innanzitutto in un segno quello della bilancia che appunto l'indecisione e quindi non l'azione quindi sicuramente nervosismo ma che una venere in leone che per voi un po' scomoda perché le cose le ha manifestate progressivamente voi vorreste tenere un controllo assoluto di tutto quello che vi riguarda mantenendolo nell'ombra soprattutto quello che riguarda le vostre intenzioni e la vostra interiorità ma questa venere che da un lato vi ha aiutati a mantenere uno status quo a reggere quell'indecisione dall'altro progressivamente in qualche modo può avervi svelati può aver svelato quelle che potevano essere le vostre emozioni i vostri gusti le vostre preferenze insomma cari scorpioni sicuramente l'ultimo mese diciamo da ripeto da fine agosto a 15 di ottobre quindi alla prima metà di questo mese insomma ci sono state senza ombra di dubbio delle tensioni interiori e tutti quelli tra di voi che non avevano nessuna intenzione di scomodarsi di cambiare di farsi sgamare di dichiararsi di di svelarsi di perdere qualcosa cioè di dover prendere una decisione sono più vi siete ostinati nel mantenere alcuni vantaggi o alcune cose delle forme delle scelte che voi avete fatto per forme di vanità insomma più avete siete stati rigidi o testardi cocciuti a voler mantenere queste cose che invece non volero riuscivano a stare insieme dentro di voi soprattutto più avete sofferto perché la sofferenza più grande arriva dal controllo dall'esercizio che noi vogliamo fare contro la vita contro gli eventi e a causa del controllo che noi vogliamo esercitare su cose che ai noi non possiamo controllare l'unica cosa che possiamo controllare siamo noi stessi che poi è la cosa più difficile e le emozioni che abbiamo dentro di noi più che controllarle gestirle a un certo punto questo mese vedrete che anche chi è diventato un domatore di leoni ed è riuscito a contenere tutto a un certo punto in qualche modo agirà perché innanzitutto perché il mese di ottobre ha un corridoio energetico che è dato da una luna piena in ariete cioè c'è una luna piena in segno di fuoco ma comunque ha l'energia di cui voi siete fatti ha l'energia di marte ragazzi marte è azione quindi nonostante voi vogliate in ogni modo agire controllando le cose quindi in maniera soft in maniera nascosta c'è talmente tanta energia di fuoco che non sarà possibile non sarà possibile perché ci sarà la luna piena in ariete che come un geyser come un piccolo vulcano esordirà nella vostra vita nel vostro quotidiano al lavoro e vi porterà all'inizio poi nei primi nove giorni formerà questa energia formerà una sorta di trigono con venere voglio vedere più o meno quando perché poi voi mi contate i gradi e l'energia invece si muove in maniera fluida voi dovete immaginare che l'energia è come un tramonto o un'alba che si avvicendano come dire progressivamente e che quindi anche se non formano un angolo retto ad un certo punto sfumando si incontrano si uniscono si mischiano e danno vita a qualcosa di nuovo quindi la luna piena allora la luna sarà piena al grado 6 dell'ariete del 29 settembre a più o meno a mezzogiorno ma la luna in un giorno compie circa 13 gradi quindi siccome venere sarà 22 potete star certi che già verso sera ci sarà si inizierà a formare un trigono tra una luna che sarà mi basta che arrivi al decimo grado dell'ariete al dodicesimo grado dell'ariete quindi poche ore e inizierà a incontrarsi con la venere che significa che soprattutto per quelle che sono le decisioni sentimentali una venere in segno di fuoco una venere plateale che ha lavorato tanto in questi in questi 4-5 mesi per farvi prendere coscienza di alcune cose di alcuni sentimenti che non si può nascondere tutto che non si può giocare al rimpiattino e di anche di chi siete veramente ok perché quello che si palesa è qualcosa che abbiamo dentro che magari finché ce l'abbiamo dentro non lo vogliamo vedere però a un certo punto poi diventa plateale come solo i pianeti il leone sanno sanno essere no quindi a un certo punto l'incontro fra una botta di vita un vulcano come una luna piena in ariete che tra l'altro è un segno cardinale quindi proprio fatta per portare le cose a cambiamento si incontra con marte e ragazzi che significa che nei prossimi nei primi 15 giorni 14 del mese di ottobre bisognerà prendere delle decisioni sarete forse anche costretti vi paleserete quindi sicuramente c'è un'evoluzione nei rapporti interpersonali e affettivi a iniziare da quelli passionali le decisioni ovviamente come si possono prendere ragazzi si possono prendere un rifiuto cioè se dovete dire un no grazie che magari è scomodo se a un certo punto dovete dichiararvi se qualcuno vi presta se siete indecisi fra vari corteggiatori e a un certo punto dovete prendere una decisione essere messi non dico alle strette ma comunque scegliere no scegliere ed andare verso qualcosa per cui vi batte il cuore insomma i primi 15 giorni l'energia vi spingerà a farlo poi dal 14 quando Marte entrerà nel segno dello scorpione ci rimarrà fino alla fine di novembre viene da sé che la seconda parte di ottobre e tutto il resto di novembre ve lo spoilero tutta quell'indecisione ormai sarà cessata avrete sarà cessata avrete sarà diventata azione sarà diventata inevitabile azione quindi avrete preso una direzione la buona notizia è che Marte entra il 14 nel segno dello scorpione viene preceduta anticipata da Venere che non resta nel segno del leone questo è un bene perché sarebbero due energie fisse ciascuna vorrebbe rimanere sulle sue posizioni quindi ci sarebbe un gioco forza di quelli estenuanti che solo i pianeti fissi i valori fissi sanno fare che sono spesso controproducenti perdite di tempo e di energia quindi la Venere entrerà nel segno della Vergine il 9 ottobre verrà raggiunta da Marte il 14 e quindi questa collaborazione tra questi due pianeti sentimentali andrà a sistemare per tutto il mese di ottobre tutte quelle vicende sentimentali tutte quelle questioni conflittuali che avevano sede che hanno avuto sede in queste settimane dentro di voi ok se dovete lasciare andare qualcosa che in queste settimane che in questi mesi soprattutto da quando giove in toro è diventato opposto quindi vi ha messi un po' con le spalle al muro vi ha limitato il campo d'azione se c'è qualcosa che non è andata molto bene in questi mesi o che ha preso una piega particolare o modificate cioè cercate di intervenire e di risolvere di capire qual è qual è la falla cioè dove dove c'è stata la perdita di energia o forse insomma no conviene e questa venere in vergine probabilmente vi aiuterà perché è molto razionale forse conviene tirare delle somme e capire e capire che forse c'è un tempo per tutto e ci sono alcune situazioni che il tempo lo hanno fatto comunque vi anticipo perché se no detta così immagino questo corridoio energetico che inizia nel mese di ottobre che porta queste novità queste nuove consapevolezze questo questo palesarsi dell'energia è chiaro che è finalizzato a farvi cambiare delle cose è una luna piena che non solo è marziana quindi è potente è in segno cardinale come una piccola grande primavera nella vostra vita nella vita di ognuno che deve fare dei cambiamenti perché le lune piene nei segni cardinali servono proprio a scardinare qualcosa di vecchio e a iniziare qualcosa di nuovo che sembra aggirarsi e riguardare il settore dei rapporti della sensualità dell'eros dei flirt del modo di viverli quindi si spera sempre che magari da una difficoltà da una presa di coscienza che dobbiamo prendere o da qualcosa a cui dobbiamo rinunciare ci sia non soltanto un sacrificio fine a se stesso ma una comprensione ok quindi tutto questo tutto questo corridoio energetico finirà no? è finalizzato a fine ottobre alla luna piena a permettere alla luna piena in toro su giove in toro per mettere a questa luna piena in toro di farvi prendere delle decisioni lavorative contrattuali interpersonali chiare nette definite trasparenti e sicuramente sane sicuramente più sane perché perché poi quella luna piena e quel giove in toro formeranno un ottimo transito con saturno e quindi nel momento in cui farete questa scelta sana si vi spiegheranno proprio la vostra nave uscirà dal porto dove è stata parcheggiata molto a lungo e prenderà il mare aperto che è il mare aperto della vita quindi fatemi sapere come vanno le cose come pensate di agire e insomma soprattutto se mi confermate che sono le relazioni l'amore il modo anche i familiari anche gli affetti le amicizie tutto quello che vi nutre proprio a livello di affetto questioni interpersonali e anche di energia psicofisica se si sta smuovendo qualcosa io vi mando un grande bacio e vi aspetto nei commenti buon ottobre 2023 cari amici del sagittario cari amici con l'ascendente sagittario benvenuti all'oroscopo dell'ottobre 2023 all'oroscopo del mese di spazio indaco un mese quello di ottobre 2023 che anche per voi è diviso in due proprio perché le energie soprattutto quella di Marte e dei pianeti veloci si avvicendano e ci sono delle c'è diciamo un avvicendamento che proprio suddivide il mese in due parti proprio a ridosso della luna nuova in bilancia del 15 del 14 o del 15 che indica proprio una novità no? proprio un avvicendamento un vento di novità per quanto riguarda le dinamiche come dire venusiane bilancine ma per voi la prima parte è veramente molto intensa positivamente intensa come molto probabilmente deve essere stato positivo anche il mese di settembre visto che Marte è stato dalla vostra e anche Venere è stato dalla vostra quindi anche se alcuni pianetini veloci come Mercurio opposto vi hanno disturbati comunque molto probabilmente erano il meno quindi qualcuno magari è stato critico nei vostri confronti oppure c'è stato da fare qualche sacrificio c'è stato da fare qualcosa no? forse vi siete dovuti occupare di qualcuno che aveva bisogno della vostra della vostra presenza quando magari voi presi da un sestile di Venere e Leone e Marte in Bilancia eravate animati da tutt'altra intenzione ed eravate molto proiettati all'esterno quindi c'è stata probabilmente qualche piccola nota no? di frizione sonata rispetto a quello che è il vostro ideale però assolutamente diciamo il cielo è stato assolutamente tendente il cielo è stato tendentamente sereno tendente al rosso volevo dire al famigliorato rosso di sera questo mese di ottobre porta come per tutti delle novità positive perché perché nel corridoio energetico della luna piena in ariete vostra grande amica sarà anche diciamo trigono a Venere la luna piena in ariete del 29 settembre a mezzogiorno un corridoio che aprirà questo corridoio energetico di esuberanza cambiamenti passioni che per voi avrà una serie di declinazioni positive e anche molto fortunate e poi terminerà il 28 tra il 28 e il 30 ottobre perché noi sappiamo che la luna piena poi ha un'estensione un'espansione di un paio di giorni prima e un paio di giorni dopo con la luna piena del toro che per voi significherà poi insomma come dire presa di coscienza e cambiamenti da mettere in atto quindi questa luna piena in ariete con cui si inaugura l'ottobre 2023 è una luna piena che vi porta a chi le cerca nuove passioni finalmente nuove passioni che vi animino e che possono spaziare dall'amore dall'eros dalla da qualcosa che che vi trascina finalmente una nuova intensa trascinante passione per qualcosa per qualcosa di creativo una sorta di missione di vita un motore un vulcano che si apre nella vostra vita e che vi traghetterà a nuove a nuove dimensioni e quindi a quelli che sono quei cambiamenti anche del quotidiano anche del modo di vivere la vita che sono sollecitati da alcuni mesi da gioventoro ok quindi una luna piena molto molto intensa che ripeto farà trigono con con venere la luna è a 6 questo lo dico per chi se ne intende se ne intende di astrologia e mi potrebbe chiedere specifiche la luna piena sarà piena al 6 ma noi sappiamo che l'energia che in natura non è chiusa in un cassetto ma è un degradare ovviamente sarà attiva nelle successive ore rispetto al mezzogiorno del 29 settembre quindi nelle ore del pomeriggio la luna che compie 13 gradi e mezzo al giorno di movimento di percorso all'interno di un segno già nel pomeriggio sarà arrivata a un dodicesimo al dodicesimo grado dell'ariete e quindi inizierà a trigonare la venere ovviamente formerà un buon aspetto di se stile anche a Marte quindi c'è da pensare a novità sentimentali di guarigione di ripristino dei rapporti di amicizia dei rapporti di affetto un nuovo benessere rinnovato cioè c'è veramente da da pensare che da aspettarsi che dei vuoti che si erano creati nella vostra vita ad essero adesso vadano a colmarsi con con amore proprio con l'energia che sale con nuova vitalità e ragazzi in concreto non è soltanto uno stare bene di solito quando noi alziamo le vibrazioni poi la vita ci risponde e quindi con nuove persone positive o ritorni nella vostra vita di persone che indubbiamente alzano le vibrazioni ora tutto questo è possibile soprattutto grazie anche al lavoro che venere leone ha fatto negli ultimi cinque mesi perché è probabile che vi abbia messo a fianco qualcuno no qualcosa che abbia ampliato i vostri orizzonti che abbia aumentato la vostra voglia di migliorare di fare del bene di farvi del bene di superare dei limiti anche di amare anche quella parte orgogliosa di voi stessi che a volte rappresenta il limite no e che non fa entrare delle cose e quindi anche a volte dei miglioramenti proprio per una questione di orgoglio quindi c'è stato tutta una progressiva benefica distensione presa di consapevolezza anche aiutata da quel mercurio retrogrado opposto a saturno che forse vi ha pungolati ma senz'altro vi ha fatto riflettere e quindi tutte queste nuove consapevolezze che sono scese in voi permetteranno l'energia della luna piena in ariete che è veramente un'energia cardinale quindi va a scardinare vecchie anche vecchie passioni ragazzi anche vecchie vecchie passioni non soltanto sentimentali vedete presente quando uno ha una passione per qualcosa la passione per la montagna la passione per per un personaggio la passione per uno sport la passione per un'attività ludica in questo in questo cielo di crescita c'è un'evoluzione anche nelle passioni che possono essere riferite proprio alla sfera affettiva anche se c'è tanto proprio di sfera affettiva e c'è tanto di amore che si va a risistemare soprattutto se c'erano state delle tensioni con il partner comunque delle mancanze intorno a voi anche l'argomento dei figli per tutti i saggettari gli ascendenti saggettari che hanno figli ci sono delle novità ragazzi per loro portate da questa luna bene in ariete quindi per chi si era impantanato per chi sta cambiando la propria vita per chi deve prendere delle decisioni fare delle scelte anche per i figli ci sono delle cose che vanno bene ci sono delle novità comunque è una luna piena fortunata se lasciate che questa energia vi pervada e se lasciate un attaccamento al passato ai ricordi alle illusioni ragazzi anche alle chimere con quel saturno a causa di quel saturno in pesci retrogrado che no vi tiene chiusi ancora qualcosa che non volete lasciare andare la seconda parte del mese con l'ingresso di allora avremo venere che il nove lascia il segno del leone ed entra nel pragmatico e un po' critico e razionale segno della vergine quindi ci sarà da lavorare forse al lavoro qualcuno inizia a dirvi guarda dovresti fare così adesso hai brillato adesso dovresti fare così si è divertita hai fatto una bella stagione adesso no oppure sarete voi stessi che vi farete un'autocritica questo comunque ci sarà voglia di mettere le cose a posto ci sarà un'energia che spinge a mettere le cose a posto e marte il 14 proprio insieme alla luna nuova in bilancia che vi farà prendere come dire delle decisioni anche rivolte a queste novità a queste passioni a questi nuovi interessi che animano la vostra vita nella seconda parte del mese con marte in scorpione in ottimo aspetto con venere per tutto il mese quindi vi darà una forza morale nuova quindi c'è un momento di esuberanza la seconda parte è più introspettiva è di profondo coraggio e discesa e voglia di far ordine dentro di voi e anche in quelle che sono le vostre aspirazioni quindi un mese introspettivo una presa di coscienza anche per quanto riguarda le passioni nascoste le passioni nascoste e poi ragazzi quello che verrà a galla nella seconda parte nei secondi 15 giorni avrà una quindicina di giorni così di introspezione e poi sarà sottoposto al mese di novembre agli effetti della luna piena in toro su giove opposta a marte in scorpione quindi a seconda di quello che emergerà dentro di voi bisognerà come dire essere coscienti di dover fare qualcosa di diverso per raggiungere quello che di cambiare rotta o comunque di decidere in base a quello che avete scoperto di voi stessi quindi mese molto comunque molto interessante io vi aspetto nei commenti fatemi sapere che cosa accade come si divide come si rappresenta questa divisione di due energie di questo mese come la vivete voi soprattutto e come la interpretate spero di esservi state comunque utile nel travedere dei cambiamenti grossi nella vostra vita fatemi sapere se avvengono io vi mando un grande bacio e vi auguro un bel ottobre 2023 cari amici del capricorno cari amici con l'ascendente capricorno benvenuti all'oroscopo mensile di ottobre 2023 benvenuti ad un mese che anche per voi è diviso in due proprio a livello di energia la prima parte del mese è più tumultuosa è più movimentata come d'altra parte un po' lo è stato settembre che è andato a scombinare a rattristare un po' i capricorno anche per vicende esterne no? riguardanti il loro entourage ma anche per dei tentativi di raggiungere degli obiettivi che poi a un certo punto che poi l'obiettivo della serenità della conquista dell'amore delle storie sentimentali potrebbero essersi rivelate più difficili o un po' più deludenti di quello che si si pensava d'altra parte il vostro governatore Saturno è retrogado quindi vi sta facendo tornare no? un po' di cose dal passato e soprattutto vi sta anche facendo rivedere delle scelte per metterle in discussione perché un Saturno nel segno dei pesci ha proprio come come dire come finalità scomoda un po' quella di disilludere nel senso che Saturno sta molto bene in Capricorno e in Acquario perché perché sono segni anche l'Acquario nel suo caos nella sua rivoluzione ha un'energia molto forte no? perché ha una sottotraccia Saturnina nel momento in cui Saturno che voi sentite sempre più di tutti probabilmente è il momento in cui Saturno entra nel segno dei pesci che è un'energia che non è predisposta ad essere attraversata da Saturno perché è esaltazione di Venere quindi amori vanità piaceri cose comode anche nascoste ideali sogni Nettuno no? poi è un segno anche abbastanza fortunato il pesce quindi non ama le austerity e allora cosa accade? che nel vostro caso gli amici il modo di relazionarvi le mete i contatti qualcuno che magari qualcuno di voi che aveva degli obiettivi di studio o lavorativi o burocratici o proprio di comunicazioni di amicizia o rapporti con fratelli con cugini magari idealizzati o svalutati o sopravvalutati qui siamo proprio nell'ordine di ideali idealizzazioni di rapporti ideali quindi di desideri che riguardano la sfera così interiore mentale della persona anche emotiva quindi aspettative nei confronti anche di qualcuno che probabilmente un Saturno retrogrado in pesci ha proprio la funzione di svelare quindi è probabile che per gli amici capricorno ci siano no delle amicizie che si rivelano non più tali altre che invece dimostrano magari meno fronzoli meno meno dinamiche come dire legate all'apparenza legate all'apparenza magari meno complimentose meno estroverse però più stabili più affidabili e anche cose anche mete anche degli indirizzi delle finalità che vi eravate posti potreste scoprire in queste in queste settimane negli ultimi mesi che non erano esattamente come li avevate pensati voi e quindi da lì c'è l'elaborazione di una nuova realtà prenderne coscienza e anche di lavorare un po' con la delusione quindi diciamo che dal 27 agosto da quando Marto è entrato in bilancia insomma avete dovuto fare un po' buon viso a cattivo gioco un po' insomma siete rimasti delusi probabilmente da qualcosa che era delusi o rattristati da qualcosa che era esterno a voi ma questo mese che cosa accade c'è una sorta di rinascita che parte dalla famiglia dagli immobili dalla casa dal posto dove vivete in questo momento o che finora avete considerato casa anche riguardo ai vostri familiari quindi al nucleo alle origini o anche alle radici c'è una luna piena in ariete con cui si apre il mese il mese di ottobre una luna piena cardinale quindi è un vulcano che rutta ma non è una come dire una lite furiosa o un avvenimento che lascia il tempo che trova quando c'è una luna nuova o piena o comunque un transito in segni cardinali serve per dare vita a qualcosa di nuovo e quindi per scardinare qualcosa di vecchio e quindi c'è chi di voi potrà decidere di vendere casa c'è chi di voi tornerà all'ovile c'è chi di voi deciderà si rompe qualcosa e deve investire no in questa nella problematica riguardo a casa c'è chi è chiamato a risolvere in generale delle problematiche che magari riguardano o l'immobile o voi o le persone che vivono nella vostra casa no ci sono delle novità perché parlo di problematiche perché è una luna in ariete innanzitutto che probabilmente richiama qualcosa che poteva essere successo tra il 2022 e il 2023 avete presente quando si parla di qualcosa in famiglia ma sai forse mi trasferisco lì ma sai forse lei se ne va ma sai forse lui parte ma sai forse lei torna ma sai forse compro quella casa no avete presente queste cose ma sai forse torno in paese e apro un'azienda agricola quelle cose che con giove in ariete no quegli esordi che possono così quei colpi venire d'amblè presentarsi nella vita delle persone di persone che pragmatiche e prudenti come voi possono sembrare dei colpi di matto magari decantate invece per quelli di voi che con queste novità con queste idee invece avevano trovato qualcosa che poteva esistere la propria realtà adesso insomma quella questione si può riproporre si può riproporre quindi dovrete fare delle scelte no e la prima quindicina di giorni di ottobre sarà più o meno vi vedrà ambivalenti e indecisi ovviamente ragazzi non è soltanto un ritorno alle origini è anche un poter incontrare qualcuno con cui fare famiglia quindi qui si parla di questioni sentimentali oppure all'interno della vostra del vostro nucleo familiare se voi siete ben accasati sistemati o se voi state bene da soli cosa molto facile per un capricorno potrebbe accadere che intorno a voi nasca l'amore e che ci siano delle new entry diventate nonni zii papà mamme genitori vi regalano arriva qualcosa di eredità vi regalano un nuovo immobile insomma ci sono tante belle novità che riguardano appunto l'amore anche i figli intorno a voi i figli per voi le convivenze e la fortuna e le passioni in generale perché questo tutto quello che accadrà che andrà a smuovere come dire gli assetti familiari o immobiliari o del luogo dove voi volete stare saranno poi finalizzati no partono con una luna piena in ariete e termineranno con una luna piena in toro di fine ottobre che per voi rappresenta l'amore i figli la fortuna una nuova passione un grande benessere a patto che ci siano dei cambiamenti nel frattempo comunque la prima parte del mese con marte in bilancia e diciamo bene rancore e leone fino al nove hanno un tipo di energia che effettivamente è un po' come dire scombussolante no non è comoda però vi avvicina a vi fa vi va a scuotere sufficientemente per portarvi ad un miglioramento la seconda parte di di ottobre marte entra nel segno del dello scorpione segno amico formerà un trigono con saturno ci sarà la venere in vergine vostra amica che inizierà a mettere ordine in tutto quello che la luna viene in ariete e marte in bilancia possono aver disordinato no e portato scompiglio quindi la seconda parte molto più soddisfacente molto più costruttiva dopo un piccolo no un po' di cambiamenti diciamo un po' di traffico portato nella prima ma quello che accade nella prima serve a farvi raggiungere delle grandi soddisfazioni che anche questo giove retrogrado riandando indietro vi sta permettendo di risolvere quindi so che siete delle persone prudenti che non amate troppo i giri di parole infatti con voi cerco sempre di essere un po' più stringata però fatemi sapere aspetto i vostri feedback fatemi sapere nei commenti come vanno le cose un grande bacio e buon mese di ottobre 2023 cari amici dell'acquario cari amici con l'ascendente acquario benvenuti all'oroscopo mensile del 2023 di spazio indaco scusate se mi distrago ma è appena entrata milla quindi noi la apprezziamo apprezziamo questo momento maggiormente benvenuti a questo mese che come per tutti ha un'energia doppia nel senso che è diviso letteralmente in due la prima parte quindi fino al 14 che poi vedrà proprio l'avvicendarsi di un'energia diversa proprio grazie alla luna nuova del 14 in bilancia che è una vostra grande amica ma facciamo il recap dei primi 15 giorni che poi sono il proseguo del mese di settembre avete per i primi 14 giorni di di ottobre marte favorevole nel segno della bilancia è un marte che è andato a vi ha dato energia vi ha fatto ampliare gli orizzonti molti di voi hanno conosciuto nuove cose si sono regalati dei viaggi si sono aperti no aperti al mondo anche attraverso delle dispute con il partner anche attraverso magari una una dialettica qualche polemica no un un dover sentire un dover conciliare più campane come se nella vostra vita da fine agosto il nuovo e il vecchio nuovi punti di vista che dovevano togliere il vecchio si sono andati a sommare quindi è chiaro che c'è stata un'attenzione un non saper no un voler magari mantenere uno status quo una situazione di equilibrio ma è chiaro che quando marte entra in un segno cardinale la bilancia è cardinale insieme all'ariete al cancro e al capricorno quella volta ogni due anni che per voi marte entra in quel determinato settore è chiaro che deve esserci un avvicendamento deve esserci un avvicendamento il vecchio deve essere scardinato non tutto ma c'è un'aggiunta di nuovo per iniziare a far diventare cardine una nuova consapevolezza una consapevolezza che sicuramente vi ha anche se faticosamente vi ha portati lontano vi ha portato ad integrare delle cose a trovare un'armonia a trovare un'altra verità anche a lavorare proprio sull'amore e probabilmente le consapevolezze che sono arrivate sono arrivate anche per migliorare la coppia o nuove consapevolezze per vivere meglio la coppia per anche attraverso decisioni da prendere considerate che avendo avuto 4 mesi 5 mesi da giugno fino al 9 ottobre anche venere opposta c'è chi forse è cresciuto e ha fatto delle nuove conquiste personali anche riguardo agli affetti alla sfera affettiva alle sfera delle relazioni perché anche grazie all'allontanamento di qualcuno o anche agli attacchi alle provocazioni alla gelosia di qualcuno magari c'erano degli acquario che hanno scoperto e riscoperto l'attrazione per un partner per una storia per una relazione che magari sembrava trascinarsi da molto perché a voi piace tanto l'energia del cambiamento del rinnovamento siete fatti di aria e poi siete figli di urano quindi amate cambiare non siete persone che stanno sempre insomma anche se apparentemente sembrate più tranquilli di quello che è non siete persone anche soprattutto nelle coppie nelle dinamiche proprio interpersonali che dove le mettete stanno e invece magari anche grazie all'assenza alla gelosia a una provocazione a dei contesti di tensione provocati da questa venera opposta avete magari riscoperto delle vecchie passioni delle vecchie relazioni e però insomma che non possono però rimanere come dire accese soltanto quando c'è l'antagonista o quando c'è l'allontanamento è chiaro che vi hanno dovuto portare a magari lavorare sulla coppia lavorare sull'ascolto lavorare sulla presenza ciò non toglie che insomma non siete più gli stessi probabilmente tra fine agosto e il 15 ottobre quando ci sarà questa luna nuova in bilancia che vi permetterà di trasformare di palesare di far evolvere tutta questa esperienza dell'ultimo mese e mezzo quindi c'è questa prima parte ancora in crescita poi questa prima parte quindi i primi 15 giorni ancora di ampliamento di integrazione di armonia di apprendimento di sperimentazione quindi di crescita personale e il 9 venere si toglie finalmente dall'opposizione entra nel segno della vergine che è meno magari come dire esuberante no? però per voi molto più comodo perché si toglie dall'opposizione quindi si rientra un po' nell'ordinario nella routine nel tran tran dopo che questo antagonista questa venere scomoda si toglie quindi finiscono le provocazioni si rientra nell'ordinario e si inizia ovviamente a fare conti che le novità di questa di questa lunga estate hanno portato per voi poi il 14 15 con la luna nuova in bilancia prendete delle decisioni ci sarà una sorta di naturale evoluzione trasformazione dell'energia che è stata abbastanza per portarvi lontano cioè per portarvi da A a B per portarvi ad un certo punto di consapevolezza e poi lì con l'ingresso di Marte nel segno dello scorpione proprio a metà mese inizierà una parte più impegnativa più faticosa ma assolutamente più produttiva nel senso che darà risultati quindi ci sarà continua il buon il buon rapporto di venere con Marte perché si spostano in due segni che però continuano a darsi manforte quindi gli equilibri di coppia le armonie che voi avete scoperto che avete dovuto riconquistare nei rapporti affettivi in generale anche dentro di voi continuano a esistere solo che spostano l'attenzione su altri settori quindi prima si è parlato della coppia del potere del potere che l'uno ha sull'altro magari avete dovuto lavorare proprio sul perfezionamento di queste dinamiche io comando te tu comandi me siete magari forse finalmente riusciti ad uscire dalle dinamiche di potere e a trovare un piano paritario parallelo di rispetto di dialogo anche grazie all'ingresso di Mercurio in bilancio il 5 ottobre e poi grazie a questo nuovo scambio nella seconda parte del mese si entra nel pratico e quindi ci si rimbocca le maniche e si dice ok ora che ci siamo chiariti ora che ci siamo visti ora che ci siamo capiti ora che ci siamo detti qualcosa ora che ci siamo forse conosciuti o scoperti anche di più mettiamo ordine no e facciamo quello che abbiamo facciamo quello che possiamo con quello che abbiamo quindi c'è questa tutto il tutto il mese c'è questa venere in vergine che vi farà mettere ordine no ad un certo punto nei rapporti e probabilmente nel frattempo vi siete anche un po' disillusi riguardo a qualcuno riguardo a degli appoggi che pensavate di avere no siete diventati siete dovuti crescere diventare un po' più maturi perché magari avevate avevate fatto affidamento su un'idea e non sulla realtà su qualcosa che poi si è rivelato un'assenza oppure si è rivelato non valido per voi grazie a questa dinamica no di saturno retrogrado in pesci che proprio ci deve disilludere ci deve far vedere quello che abbiamo realmente perché ci fa scendere nella realtà contestuale quindi probabilmente no vi dovete mettere a lavorare sodo dovete mettere ordine anche con le assenze che si sono verificate però ragazzi è un momento di grande crescita perché comunque di grande benessere cioè questa è una via necessaria per arrivare al benessere perché quella venere innanzitutto è trigono a giove poi questo corridoio energetico con la luna piena in ariete che proprio vi fa rinascere che attraversa tutto il mese di ottobre che appunto vi fa rinascere come nuove persone vi fa tornare alla ribalta magari con nuovi progetti nuove iniziative nuove comunicazioni se avete lavorato molto ad un progetto che doveva esordire per esempio questo con questa luna in ariete cioè questo mese questo progetto prende vita per esempio se dovevate sistemare delle cose con i fratelli con gli amici oppure con i cugini se lavorate nella comunicazione se c'era un progetto di studio e avete dovuto no equilibrare un po' le energie prima nella seconda parte del del mese quando vi sarete schiariti le idee andrete a come dire a prendere una una decisione quindi c'è la luna piena in ariete questo corridoio energetico di luna piena in ariete vi vede rinnovati vi vede esordire in maniera con una nuova veste è una luna è una luna molto molto forte molto e molto positiva può essere un rilancio di qualcosa che fatevate già ma alla luce di nuove consapevolezze che nella prima parte del mese vedranno ancora così indecisi nella seconda parte del mese vi vedranno rimboccarvi le maniche propositivi risolutivi e come dire ormai diretti verso l'obiettivo questa luna piena in ariete oltre ad aiutarvi come dire a rinnovare le vesti di quello che avevate già a livello interpersonale relazionale di comunicazione di lavoro e di studio in realtà per chi è pronto per chi aveva le carte in tavola per approfittarne indica anche nuovi potenziali positivi e fortunati incontri anche i cosiddetti colpi di fulmine che ovviamente trovano spazio in un contesto in cui Marte in bilancia avendo sollecitato molto Marte in bilancia a venere in leone avendo sollecitato molto le relazioni vi hanno aiutati o a far piazza pulita quantomeno dentro di voi di qualcuno che di un sentimento che non vi appartiene più o a elaborare un'assenza e quindi con questa luna piena in ariete laddove c'è lo spazio per muoversi possono esserci i veri e propri colpi di fulmine che volendo ragazzi potrebbero evolvere anche velocemente e questa cosa poi la vedrete tra novembre e dicembre non vi spoiler particolarmente perché dovete godervi il momento diciamo nella seconda parte del mese intanto con Marte Scorpione venere vergine di impegno di molto lavoro di per raggiungere una nuova conquista un nuovo obiettivo e dipende dalle conquiste che volete fare e che sono possibili nella vostra vita quindi c'è un inizio una trasformazione inizia una rinascita quando il botone poi tornerà nell'acquario insomma cambierà ancora di più le cose però voglio dire questo è un mese molto interessante per scardinare quelle cose che vi stavano soffocando che è che è la cosa diciamo più importante per voi cioè avere un raggio di azione che vada oltre le comodità nelle quali poi magari vi appoggiate che vi consenta sempre di sentirvi vivi in definitiva qualcosa a fine mese sarà morto sepolto ma non vi non vi spaventate potrebbe essere anche una parte di voi no lasciare andare finalmente delle vecchie dinamiche e aprirsi ad una nuova peste perché sembra che è tutto con voi quindi ad una nuova veste una nuova idea di voi stessi quindi ad una nuova conoscenza fatemi sapere nei commenti come vanno le cose come si dipana questo mese così interessante io vi mando un bacio vi aspetto e vi auguro un buon ottobre 2023 cari amici dei pesci e cari amici con l'ascendente pesci benvenuti all'oroscopo mensile di spazio indaco parliamo dell'oroscopo di ottobre 2023 voi avete saturno sul sole saturno retrogrado fino al 4 novembre quindi anche questo corridoio energetico che va dalla luna piena del 29 settembre alla luna piena del 28 ottobre sarà una sarà vissuto al fine di scardinare qualcosa perché perché allora saturno nel vostro segno saturno nel segno dei pesci ha proprio la funzione sia in generale e quindi no particolarmente su di voi di rastrellare di passare come un pettine a denti stretti che si incaglia dovunque trovi un nodo perché perché deve o scioglierlo e quindi continuare il tragitto o toglierlo quindi magari un nodo di capelli vecchi no e quindi in che modo fare una selezione e lasciare l'essenziale ovviamente ovviamente in che ambito si muove cioè di che selezione stiamo parlando i sogni i vizi i piaceri le abitudini le illusioni perché perché saturno si muove in maniera molto diversa nel segno dei pesci che non è abituato ad atmosfere saturnine rispetto ai precedenti cinque anni in cui abbiamo avuto un saturno in capricorno e in acquario che erano fondamentalmente nel loro regno quindi sono segni soprattutto sono dinamiche abituate no a austerity rovesci inquisizioni restrizioni sacrifici e anche abituate a reggere botta quando poi si spostano in un segno come il vostro inizia a come dire a lavorare sulle illusioni sui sogni perché alcuni sono dei desideri che fanno parte della nostra realtà e altre sono delle megalomani e queste ce li hanno tutti gli esseri umani non è una cosa indirizzata a voi adesso ne state rispondendo voi nella vostra vita ci sono magari delle esagerazioni delle esagerazioni sia in eccesso che in difetto quindi se uno ha un sacco di paure oppure se uno ha tante mani di grandezza voi ricordate che siete il segno di nettuno quindi non fa le cose piccole cioè si tende all'esagerazione perché è il segno che è collegato a una portata d'acqua quindi di emotività e di sogno oceanica a differenza dei due segni d'acqua precedenti che sono scorpione e cancro che invece sono abituati a una portata d'acqua quindi di emozioni di dimensioni più corte più ridimensionate e quindi sondabili voi siete a volte una scoperta anche per voi stessi nel senso che avete 10 miliardi di risorse 10.000 personalità 10.000 talenti ma a volte anche 10.000 eccessi è proprio nella natura del vostro segno che tra l'altro nettuno è giove quindi giove oltre ad essere fortunati oltre ad essere piacevoli siete oltre ad essere buoni oltre ad essere generosi siete no va allargate anche cioè avete poi siete l'esaltazione di venere quindi avete la concentrazione di tutto ciò che è il contrario di austerity quindi dopo 30 anni c'è questo ritorno di saturno che viene a chiedervi innanzitutto negli ultimi 30 anni cosa hai fatto era reale quello che stavi facendo aveva un senso oppure c'erano degli eccessi se trova degli eccessi grandi vi inizierà a chiedere innanzitutto di rinunciare di rinunciarvi no di modificare lo stile di vita di modificare le relazioni no di essere più essenziali di essere anche più affidabili di essere più presenti di essere più concreti o di allontanarvi ed è arrivata milla a gran voce o di allontanarvi da quelle persone che magari negli anni approfittando anche della vostra natura no che a volte è scollegata un po' dalla realtà che vive nel sogno ed è molto buona e vive molto per i rapporti umani e corre molto in aiuto degli altri approfittando di tutte queste qualità e caratteristiche che vi contraddistinguono ha potuto millantare un sentimento delle attenzioni che magari non erano reali nel senso che probabilmente da 6, 7, 8 mesi a questa parte state iniziando a fare i conti con delle assenze anche con delle promesse non solo con le vostre è chiaro che una persona è bene che si responsabilizzi perché poi quello che siamo rincontriamo nella nostra vita cioè gli altri ci fanno da specchio di qualcosa che riguarda noi altrimenti quelle frequenze quelle situazioni quelle dinamiche noi non le incontreremmo perché appartenerebbero ad altri ok? ricordate sempre che la vita ci insegna a vivere e quindi cosa vi sta insegnando Saturno retrogrado? è chiaro che finché il retrogrado il retrogrado dei primi di giugno parla del passato quindi sta portando tutti i nodi al pettine per dire cosa ci facciamo con questa matassa no? ci sono cose risolvibili cioè questo è un passato che fa acqua da tutte le parti tanto per rimanere in tema di acqua c'è bisogno di pulire scremare togliere alcune situazioni che magari a cui magari dovete rinunciare in questo periodo a causa diciamo dei pianeti in vergine sono piccole cose milla se ne lamenta ma così è anche perché lei vuole uscire no? quindi di privazione si tratta io a volte ho la sensazione che capisca l'italiano vieni qua vieni vieni qua a che cosa dovete rinunciare? all'uscire le cose a cui dovete rinunciare sono cose piccole nel senso che sono state portate dai pianeti in vergine mercurio retrogrado in primis adesso la venere il nove entrerà nel segno della vergine quindi no? diete vizi eccessi in qualche modo eccessi anche di di credito soldi prestati voi sapete che insomma dove c'è fluido c'è denaro anche da da riequilibrare stavo dicendo tutto quello che alcune delle cose che adesso si congelano non è detto che siano morte per sempre cioè se una cosa non va non riesce a trovare l'infa vitale per continuare adesso non è detto che scompaia definitivamente dalla vostra vita potrebbe avere un congelamento come Saturno fa una sospensione per darvi come dire tempo di guardare altre dinamiche e poi tornare no? quindi sappiate anche questo però bisogna avere l'equilibrio e la lucidità di capire cosa può essere e cosa non può essere e questo andate oltre l'ego e cercate di ascoltarlo nel vostro cuore dove c'è passione vera dove c'è amore non pancia sentimenti emozioni dove vi si allarga il cuore anche se una situazione finisce può essere congelata e poi ripartirà cose che sono di pancia di abitudine di ego di vanità ce n'è tanta siete pesci siete l'esaltazione l'esaltazione di venere dove c'è un legame più egoico di ego di personalità lì è probabile che il rastrello di Saturno sganci Saturno comunque il 4 novembre torna diretto quindi insomma c'è questo corridoio energetico giusto da affrontare poi già vi anticipo dopo questo pippone che da la prossima che questo corridoio energetico finisce con una luna piena fine ottobre in toro vostra amica su Giove se stile a Saturno dopo pochi giorni dopo meno di una settimana Saturno tornerà diretto quindi quello che accade questo mese è soltanto una rincorsa per prendere un largo con novembre strepitoso in realtà questo mese è diviso in due il primo con questo Marte in bilancia insomma un po' un po' polemico un po' teso un po' dove dovete mettere insieme ragione e sentimento un po' conflittuale il 14 con una luna nuova è in bilancia lascia lascia il segno della bilancia quindi l'energia cambia viene proprio sbalzato da questa luna nuova in bilancia che dice ok sei stato contraddittorio tutto questo tempo cosa è deciso nel frattempo e dal 15 Marte passa nel segno amico dello scorpione e vi arriva l'aiuto di cui avevate bisogno o arriva a spianarsi la strada della grande indecisione che tra settembre e la prima quindicina di ottobre avete avuto proprio a causa di questo Marte in bilancia che vi ha messi proprio di fronte a un non sapere se riuscivate a farcela da soli o se dovevate chiedere aiuto questo corridoio tutto quello che dovete rastrellare tutte le cose con cui dovete fare i conti in questo corridoio si muovono proprio nell'asse della materia cioè tra quello che riuscite a fare voi luna piena in ariete tra quello che riuscite a procurarvi di vostro e quelli che sono i limiti a un certo punto bisogna chiedere agli altri ok ci sarà questa cosa poi ovviamente voi siete liberi di dire no io non chiedo a nessuno ovviamente se la situazione estrema è necessario io non chiedo aiuto a nessuno me ne sto da sola faccio da sola faccio un sacco di passi indietro come mercurio in vergine prima venere in vergine poi mi suggeriscono e poi rilancio quello il conto la quenta dove far prendere la bilancia quello lo decidete voi quello che state valutando in questo momento è se farcela da soli o avere bisogno degli altri e gli altri potrebbero essere anche un partner questa cosa si risolve viene fuori il 14 di ottobre con la seconda parte del mese con Marte in scorpione e Venere in vergine avrà proprio vedrà una collaborazione di natura completamente diversa ci sarà un piccolo sacrificio ragazzi è chiaro che ci sarà meno come dire il palcoscenico nel quale vi muoverete dove venere vi farà muovere sarà meno plateale di quello del leone ma sarà comunque qualcosa di concreto che vi porterà magari meno come dire meno prestigio temporaneamente meno sfarzo ma pragmatismo ed energia molto costruttiva perché Venere sarà in se stile per tutto il mese con questo fantastico Marte in scorpione che vi porta questa nuova energia questo nuovo aiuto questa nuova soluzione nella vita e questo Marte farà trigono a Saturno e poi quindi manderà dell'energia al grande maestro ci sarà uno scambio tra esperienza comprensione e trasformazione e il 4-5 di novembre la vita riprenderà Saturno il signore del tempo inizierà a rimuoversi e voi avrete come dire guadagnato una nuova energia una nuova esperienza che magari è nata da un sacrificio è nata da una situazione che pensavate complicata e invece può portarvi un sacco di cose buone quindi si aprono degli scenari molto interessanti ovviamente questo è un argomento vasto nel senso che riguardando l'asse della materia può parlare di nuovi lavori può parlare di nuove entrate può parlare di nuovi budget di nuove fonti di sostentamento questo raccontatemelo voi perché comunque con Saturno in pesci retrogrado tante cose si mettono in discussione e anche le finanze questo è un periodo di trasformazione ma di condensamento cioè le cose vanno a rilento anche perché devono scendere in profondità per acquistare proprio per sviluppare radici forti quindi fatemi sapere nei commenti come andrà questo mese io vi mando un grande bacio ringrazio tutti per essere stati con me anche questa volta in questo lunghissimo oroscopo spero che la soluzione dell'oroscopo mensile vi soddisfi in qualche modo mentre cerco nuove soluzioni per altre forme di come dire di interpretazione astrologica vi aspetto nei commenti vi mando un grande bacio e vi auguro un buon mese di ottobre 2023 grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti